Ciao, ciao Germano! Ciao Giorgio, buonasera a tutti, tutto bene, tutto bene, grazie. Tutto bene, tutto bene. Siamo equalizzati perché sentivo forse che il microfono era a basso. C'è anche Paolo, ciao Paolo. Se vuoi posso... Credo che sia... Allora, se ci date un feedback sull'audio... Io l'ho alzato un po' l'audio, ma credo che sia ok, dovrebbe essere ok. Tu mi senti bene e di solito dovrebbero sentirmi bene anche loro. Io ti sento bene, sì, non so che siamo equalizzati da di noi. Comunque, allora, intanto, Germano, raccontaci un po' chi sei, cosa fai e poi partiamo con il content. Allora, intanto, sono contento che vedo che la tua chat mi conosce. Si sente bene. La mia community, no, la mia community conosce te, conosce te e fondamentalmente ti ama, ti stima molto, spesso ti cita anche e viceversa vedo che, insomma, la tua community... Quindi non è che servono grandi presentazioni. No, infatti, infatti. Io sono quello di Fufflix, quello che... Di Fufflix. Cercatore di fuffa, come noi. Cioè, sono cercatore di funghi, io sono cercatore di fuffa. Avete, non mi occupo solo di quello, in generale mi occupo di tutela del consumatore. Tutto quello che riguarda i reati al patrimonio e pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole in particolare, appunto, nei settori dove io poi sono specializzato che è la parte di e-commerce, business online, start-up ti conosciamo, infatti, scrivono. Sì, sì. Non ti far distrarre, in realtà partiranno commenti. Poi, ovviamente, anche tu fai streaming, anche tu fai live, lo sai, in genere. Se vedi commenti che ti interessano, rispondi. Se no, passeranno commenti sotto ogni tanto. Sì. Sì, sì. Quindi, non mi dilungo, insomma, no? Presentazioni, è inutile che ci dilunghiamo. Come tu hai detto, ci inseguiamo da mesi e non riusciamo a trovare... Scusa, Germano ha un po' auto. Mi sono auto-abbassato io, ho letto già. Ditemi, dovrebbe andare bene. Ok, ok. Ok, va bene, sì. Scusa, vai. Dicevo, ci siamo inseguiti per un po', poi ti ho già detto che dovrei ricambiare anche tu e dovremmo trovare un tema figo, insomma, a fine. Ma ce ne sono tanti, ho fatto anche... Sì, anche secondo me, il formato, quello che facciamo stasera potrebbe essere una roba... Ripetibile. Ripetibile, sì. Tra l'altro sono andato live anche sul gruppo Fufflix, contemporaneamente sulla pagina. Magari le prossime volte potremmo fare delle live insieme dove io le faccio solo per gli abbonati, quella con te, anche perché tu hai una... un approccio diverso dal mio, nel senso io faccio la live e la live va così, grezza, non c'ho l'editing dopo, no? Va e resta, dopo non la modifico, non la ricarico. Invece tu ci lavori dopo, no? La pulisci. Io, beh, io già dall'inizio facevo delle live che poi dopo tagliavo in qualche clip, un po' come il maiale, non si butta niente, escono dei clip, escono cose, e poi puliamo un po', ho un ragazzo che mi aiuta col montaggio e via. Poi in generale, prima ero più streamer, adesso credo che sto switchando più verso un contenuti scritti, per cui ho fatto anche dei contenuti non live, quindi in generale, non so, in live ci stanno n persone, però poi i video ricaricati li vedono molte persone, e YouTube non premia molto le live lasciate sul canale, non vengono spinte, mi sono reso conto, visto che piuttosto conviene toglierle e ricaricarle come video, e quelli girano più. Sì, anche se sai, io per esempio vedo che a me vanno una bomba, nel senso che ho provato a fare clip, quindi a ricaricare dei pezzi, rispetto a live, no, cioè va molto meglio, quindi dipende secondo me, come abitui l'algoritmo del canale, cioè lui vede che tipo di streamer sei, e in base a quello poi probabilmente ti spinge o meno, per esempio a me per ora vanno malissimo, o te ho visto che vanno bene, vanno malissimo, abbastanza male gli short, ne ho pochissimi, ne ho tipo 5-6, ma quelli non ne fai tu. Allora non mi piace proprio il contenuto corto, saluto Kevin che è il mio angelo custode, ma è un po' di quanto mi ha aiuto con la contabilità, parte come contabile, poi diventato dietologo, e ora project manager di alcuni miei progetti, cioè Kevin è un po' grande, è un piacere vederti qua Kevin, grande. Allora, allora, dicevamo quindi, community Fufflix, lo trovate su Facebook, su YouTube, col canale che sta andando alla grande, in chieste spesso Germano Alcerbero, lo troviamo, e via, niente, quindi ci occupiamo di scovare la fuffa, e quello che abbiamo preparato, in realtà, è una lista quasi infinita, di personaggi che ci avete segnalato, che mi avete segnalato, nell'ultimo mese, io nell'ultimo mese, Germano, ho fatto un po' di live, diciamo che, mi è tornato questo, ho questo pallino, io ogni tanto mi ritorno, del tipo, no basta, questo è troppo monnezza, spieghiamo perché è monnezza, e allora la gente mi scrive, ma guarda questo, guarda quest'altro, guarda quest'altro, guarda quest'altro ancora, e ora raccogliamo un po' di roba, però, non è che voglio passare la vita, per reazione, se no dobbiamo fare, alle 6 del mattino di domani, finiamo, se ne dobbiamo fare, no no, però, io direi che, partiamo da, da un paio che mi hai anche, suggerito tu, e poi dopo andiamo, possiamo andare a caso, oppure chiedere anche alla chat, cosa ne pensa, e così via, cosa vuole approfondire, cioè cosa vuole reaccattare, io partirei da, da appunto, da Tommy Marangoni, tu conosci? Mitico, conosco molto bene Tommaso Marangoni, lo conosco da quando aveva 14 anni, e già, già parlava di soldi, e-commerce, criptovalute, quindi, un fan prodige, ok, Tommy Marangoni, benissimo, è, è questo, giovanotto, sul quale, ho trovato, un po' di risorse, ad esempio, ha fatto una bellissima live, su un video, su risponde a domande scomode, che, è qualcosa di esilarante, però è molto lungo, bellissimo, con la mia assistenza, non so, un qualcosa al volo, un, 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 un rilla al volo, i viaggi che fai, a soli 16 anni, ragazzi, la risposta è una, ed è il trading di cripto, se mi dai 60 secondi, eh, Germano, è il trading di cripto, è, gli fa fare i viaggi, in jet privato, a 16 anni, la risposta è una, se vuoi fare soldi, trading di cripto, in questo video, ti spiego come, quello di cui mi occupo io, è indovinare la direzione, che il mercato prenderà, da qui a qualche giorno, indovino, se rialzo, o ribasso, inoltre, utilizzo i soldi degli altri, perché utilizzando la leva, posso utilizzare più capitale, rispetto a quello che io possiedo, così facendo, e portando a profitto, 9 operazioni su 10, ogni giorno, ma è geniale, 9 su 10, geniale, cioè lui, usa il capitale di altri, e fa 9 operazioni su 10 a profitto, geniale, i soldi degli altri, la leva, perché giustamente, i broker ti mandano a leva, perché sono generosi, tutti quanti, i benefattori, benefattori, qua c'è sempre una parte, di beneficenza, mi arricchisco sempre di più, tutto ciò lo posso fare, quando voglio, quanto e dove voglio, come in questo momento, che potrei farlo tranquillamente, vedere professionisti, ma a scuola non ci va più, sto ragazzo, a lasciare, c'è l'abbandono scolastico, cioè si è fermato, si è fermato, l'obbligo fino a quant'è, è proprio a 16 anni, l'obbligo è fino a 16 anni, quindi in teoria, l'inea 16, quindi in teoria, o nei 17, e quindi la lasciare, non lo so, dipende da che mese è nato, e si ha fatto la primina, anche a Dubai funziona così, ma io sono, non so se ha fatto, abbiamo chiesto se ha fatto la primina, io vorrei parlare con il padre, di questo ragazzo, e gli vorrei fare delle domande, alle spalle, non hai clienti né responsabilità, l'unica cosa che ti serve, tutti quanti questi effetti, o tutti uguali, c'è uno sto pacchetto standard, no? Ogni quale? Il telefono, e le competenze giuste, scrivimi su WSQ, allora, ok, io voglio estrarre, una sorta di manuale, una sorta di segnali, per identificare la fuffa, intanto, perché secondo te, perché secondo te, la, ti chiedono di, contattami in privato, su Instagram, o scrivi una parola chiave, su Instagram, perché non hanno una pagina, con chiaro, quello che vendono, quello che fanno, i prezzi delle cose, bravo, beh, in realtà, nella tua domanda, c'è la risposta, perché, non te lo devo dire, in chiaro, è la strategia di vendita, di solito, loro si affidano poi, ai cosiddetti, appointment setter, che io dico, appointment colli, appointment barboncini, pastori tedeschi, nel senso, sono quelli che ti fissono gli appuntamenti, quindi fanno il primo contatto tiepido, cioè quelli che richiedono info genericamente, se lo riscaldano, te lo fanno entrare, poi, eventualmente, in un micro funnel, o semplicemente, te lo inseriscono in un agente, ti prendono un appuntamento, a me, per esempio, io l'ho contattato, un paio di questi, e camorosamente non mi conoscevano, i loro, i loro appointment setter, mi hanno fissato l'appuntamento in agenda, e poi nessuno si è presentato, il giorno dell'appuntamento, ne ho anche parlato su, ho preso un appuntamento, uno di questi e-commerce automatici, ma proviamo, magari so stronzo io, che ho investito centinaia di euro, e non sono ancora ricco, però non me l'hanno dovuta fare la consulenza. in call, e cercano di concludere in call, ci dice, in call, si, ti mettono fretta, ti dicono anche, guarda Giorgio, 3000, 1600, decidi subito, insomma, questa è la strategia. Allora, famiglia, vediamo, sono un po' lento a capire, praticamente, perché se dirti, sta roba costa 5000, messo lì, la gente si spaventa, non entra, Sì, non ti lascia il contatto, di base, è più difficile. se invece mi invogli, no, dico, boh, chissà quanto, chissà che prodotti fa, costerà, intanto, devo andare da qualche parte, dargli dei contatti, lasciargli la mail, il numero di telefono, e poi, ti fanno chiamare, e ti dicono di prendere la decisione, in quell'istante. Io ho visto, c'era un altro, che ho fatto una reaction, Jimmy Cenedella, una roba del genere, che l'ha sponsorizzato anche Corona, che si dice, no, ti chiederemo di prendere la decisione, in quel momento, non c'è tempo da perdere, non puoi neanche dirgli, senti, facciamo così, mi richiami fra due ore, che ci penso, devi decidere lì, di aver già pronto, a fare il bonifico, in quell'istante, fantastico. Cenedella è uno di quelli, che ti dice, che diventi ricco col call center, che si fa, ma tu pensa, pensa, quanto l'angolo, con cui promuovi, e dice tutto, cioè la gente, nei call center, non ci vuole andare, manca pagamento col fisso, no, non ci vuole andare, ti paghi, mille, duemila euro, per fare il call center, semplicemente, perché c'è uno, col microfono, l'atmosfera, che ti dice, 5, e 10k a mese, con questo nuovo lavoro. Call center IT, che non è il call center, sì, quello che vendi, cioè, fai milioni. Probabilmente, quindi, la voglia, te la fanno venire, perché senti, senti puzza, di network marketing, e dici, ah, se vendo 10 corsi, di scuola per ricchi, da 15 mila. Sì, sì, esatto, esatto, quello, quello è il bravissimo, è quello che ti fanno usare. Sì, anche su Corona, ragazzi, abbiamo preso un'altra sponsorizzazione, un altro che ha raccomandato lui, che poi forse, da anni, ragazzi, eh, cioè, non da oggi, forse è peggiorato. Io ero super arrabbiato, con quelli che dicevano, eh, Corona per due foto è finito in carcere, no, Corona si è andato a vedere il suo casellario giudiziario, vi ha ghiacciato, i soldi falsi, botte. No, ma poi Corona è uno che ha sfidato la magistratura, ha sfidato chi lo stava processando, quindi non è stato neanche intelligente, era star zitto e mostrare pentimento, no, è andato lì, ha sfidato i giudici, e i giudici lo hanno fatto male, cioè, quello è il, gli hanno fatto il massimo che potevano fare. Quindi, se vogliamo di questo Tommy Marangoni vedere di più, cosa possiamo fare? Dobbiamo scrivergli, non c'è, non ha una landing page, non c'è da qualche parte, c'è un sito, vedi un po', link in bio? Neanche, neanche, scopri come investire in dienche, questo qui non ha una presenza online. Guarda, 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 avere una società, quindi, probabilmente del padre, sarà in questa realtà. 1800 studenti. Sì, poi è bello questo più, vedi, altro se, quando vedi 1800 più, più, vuol dire che almeno, no? più di quei, più di, almeno il minimo è 1800. Non so, che curioso, non so, se qui abbiamo qualche, spiegazione, vedi spiegazione, quella lì, spiegazione, hai visto spiegazione? aspetta, spiegazione, è andata, vai. Allora, ce lo chiedete spesso, e oggi voglio farvi capire come è sfruttato il nostro programma di affiancamento per due motivi principali. Vabbè, questo già è italiano da, non hai finito la scuola e si vede. Giustamente, farvi capire perché abbiamo così tante storie di successo, a contrario della concorrenza. Vabbè, rimandato, 5, 5 meno in italiano qui. Vabbè, Tommaso. Non ci accaniamo sulla poverino, sulla grammatica, ma anche il senso, no? Cioè, il primo punto che ti viene da mettere, adesso vi spiego come funziona, lo so, il trading, è farvi capire perché abbiamo tante storie di successo a contrario della concorrenza. Vabbè, perché se non ti viene molti più soldi per accedere alla nostra formazione di livello. bellissima, non ha spiegato niente, tra l'altro. No, esatto, te lo spiega e poi non spiega a cazzo. 60 più ore, aspetta, scusa, la veloce qua, eh, 60 ore di formazione, due training principali, dall'A alla Z, un anno di lavoro, esperienza, qui si sviluppano le conoscenze. ok, secondo lui, coach ufficiale H24. Ha un gruppo interamente dedicato, nel gruppo ci siamo io, Edoardo, Gabriele, coach ufficiale, noto Gabriele, coach ufficiale, che è inizio nazionale, e Alessia, office manager. Sarà la Morgan Stanley, se non sbaglio. Sì, quindi c'è l'assistenza H24, non scherzo, anche di notte. Ops. Quindi, aspetta, scusami, scusami, ma questa assistenza H24, anche di notte, ma non erano quelli che, così non devi, puoi lavorare quando vuoi, e dove vuoi, orari, come 24 ore al giorno, cioè, già qui, no? Com'è? Non mi chiamo fa lui, c'avrà una rete di assistenza. No, perché da me, da me. Che sono quelli che quell'altro ti vende come, eh, allora sono geniali, no? Quello lì ti forma i call centeristi, e poi te li piazza da quest'altro. E gli fa vendere i corsi di questo qua, che tra l'altro ha dei PDF formativi. Eh, quindi c'è anche materiale, no? Insomma, si crea interazione, dai, dai. Se zoom, videochiamata, col coach, con noi, esperti, variabile, con me Edoardo imparerai la nostra struttura, neanche un accenno a qualche concetto, che mi faccia capire che ha delle, che ha delle, che ha delle, esatto, per ora è il nulla, mescolato con il niente. Qui io chiederei alla Consob, cosa ne pede, vada, muoio, la voglio dire. Gabriele però forse a 18 anni c'è arrivato, perché adesso si vede un po' in sfondo, questo è il nostro coach di Gabriele. qualche pelo di barba ha iniziato a doverselo fare la sera. Lui è il ruolo di success manager. Ah no, è stato formato da loro, one to one, per nove mesi. Ed è ormai da un anno e mezzo a questa parte, capito? Quindi aveva 12 anni Marangoni quando ha iniziato. L'hanno preso al liceo, alle superiori pure a lui. Sì, Infine, c'è il lavoro dello studente, dedizione, ma come? Aspetta un secondo, volevo anch'io stare in piscina, non fa un cazzo. Noi come vedete diamo tutti gli strumenti, poi, eh, è certo. Io trovo che ci sia una sorta di, di strano cortocircuito, perché tutti ti attraggono dicendo, entra le passive, non devi fare un cazzo, però poi dopo a un certo punto nella, nella, nella super cazzola, partono con, però devi impegnarti di crederci, così che poi, se vai male, colpa tua non si è impegnata abbastanza. Non si è impegnata abbastanza. Ma guarda, io sono stato all'evento di Cosentino, ti racconto questo piccolo, l'evento di Cosentino, come sai, commentavamo la live, e mi ha commentato, sotto uno dei miei status, nella community di YouTube, nella parte di YouTube, un suo corsista, uno che era lì, un imprenditore che vede vernici. è molto carino, molto cordiale, abbiamo avuto un dibattito amabile, anche se la pensiamo in maniera, in maniera mente opposta, lui alla fine conclude con, sai qual è il succo? se non riesci a concludere niente, è colpa tua, che non hai applicato, in automatico. Mi ricorda, mi ricorda qualcosa come tipo, la sindrome di Stoccolma, o forse qualcosa del tipo, mi auto, cioè già mi faccio blaming su me stesso. Sì, la protezione dell'acquisto si chiama, cioè quando tu compri una roba, e ti devi autoconvincere, che quell'acquisto è stato un ottimo acquisto, se non una vaccata, poi non sto dicendo che sia per forza una vaccata, però è proprio l'approccio che è sbagliato, cioè. Grande, aspetta, aspetta, sì, scusa Tommy, sì Tommy. All'ending page. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, grande Federico, aspetta, andiamo subito a pre, dove sta, dove sta? Crypto USL, bellissimo. Dove sta, dove vieni? Da Twitch, aspetta che vado a cercarti, allora, eccolo qui, eccolo qui, grande, grande Federico Stompo. Allora, eccolo, ce l'abbiamo, abbiamo la landing page. Bello. Ah, io, a me piacciono troppo le landing page, mi emoziono quando comincio, grande Federico. Allora, innovazione, partiamo con, ah, io in genere subito comincio e cerco la parte che dice, sto sito non è Facebook, lo cerco subito. Sub in basso. Se non c'è, sto sito non è Facebook, eccolo qua, sì, c'è, è un rigo. C'è, allora perfetto, abbiamo già fatto il primo punto. Già ci siamo. Il primo step. Questo non è parte di Facebook. Perché c'è sempre sta puttanata scritta? Ah, questa in realtà è una puttanata che copia e incollano loro, ma non ha alcun fondamento di nessun tipo, cioè non si capisce perché lo mentono. Gliel'avrà detto qualcuno, si è diffuso tra Fuffaris, la strozzata, e la... Però è bello, questo è un marchio di Fabri, c'è nessuna persona seria a scrivere per una serie del genere. Non ho mai scritto, io faccio, non ho mai scritto, mai mi sono venuto in mezzo a questo... Ma perché come fai a pensare che si è associato a Facebook questo sito? Perché ci sono le azze su Facebook? Io ho pensato che fosse così, che Facebook... Io non so aspetto di ads su Facebook o su Google. Tra l'altro sono anche poco aggiornati. Facebook pretende che tu crei un distacco tra il tuo sito e spieghi che non è più parte di Facebook. No, Facebook vuole, Facebook non vuole, per chi conosce sa di cosa ha preso le Facebook ads, che tra l'altro è anche poco aggiornato perché non è più Facebook ma è meta, ha cambiato nome, quindi dovrebbe scrivere anche meta e non Facebook, va bene. Siamo nel 2018, qui 2019. Comunque, lui non vuole che tu utilizzi i suoi nomi dei brand all'interno delle ads. Cioè, per esempio, fai un copy e scrivi, guarda le nostre recensioni di Facebook. Ecco quello, non lo devi fare, non lo puoi fare. Oppure usi il logo di Facebook nelle ads. Quello non lo devi fare. Credo che molti dicono che sarà necessario per farsi approvare, ma c'è ragazzi, anche la Mercedes fa pubblicità su Facebook, non penso che tu vai sulla home page della Mercedes e il sito qui non è Facebook. No, Giuseppe no, assolutamente no, faccio ads al 2015, ti dico che ho venduto qualsiasi cosa, e-commerce, ho fatto l'e-generation, di qualsiasi tipo, ma hai scritto. Molta gente dice cose del genere, ma secondo me è una cazzata. No, sono quelle leggende, un mio amico mi ha raccontato che il cugino ha visto un motociclista che era in moto, gli hanno decapitato la testa un camion con tubo e la moto ha continuato a camminare per 100 chilometri. E' quel tipo di leggenda metropolitana. Poi giustamente questa SRL, dov'è la partita IVA? La sede legale. Sarei cantato di andare a vedere cose. Vedi, nella cookie policy, cookie policy, termini e condizioni ci dovrebbero essere i dati della società. Ok, allora, qui abbiamo la privacy policy e la privacy policy. Eccola qui, ci sta, vedi? Però ci sta la PIC Consulting SRL a Corso Portanova. Ok, a Verona. Verona, c'è scritto tutto, c'è anche la PEC. Abbiamo dei dati. Sì, qui almeno. Poi potremmo andare, questi sono copi incollati, via, termini e condizioni, bla bla bla. Vabbè, almeno qui c'è una società italiana, attenzione, già è qualcosa. Potremmo andare peggio. Già è qualcosa, sì. non la di Delaware. A che punto non lo fa nella nostra cialtrombola. Allora, il motore che si muove. Ma se vai sopra, la cosa che mi occupo è proprio nel leader. Guarda, l'innovativa strategia che, ah pure questo è bello. Aspetta, ma che cazzo? ABC News, la CNBC e l'Huffington Post dichiarano. dichiarano sta creando. Ma chi? Secondo me, lui? Io ti prego. No, ma no, secondo me, se me l'hanno detto internet sta creando e lui è estratto solo sta, cioè ti prego, a parte che sono convinto che tipo, questo è estratto da una frase che è una cosa del tipo internet sta creando la nuova ondata dei giovani milionari e lui è estratto solo sta creando che sembra parlare di lui. Sembra che l'ha detto lui, esatto, sembra che lo dicono di lui questi giornali sono curiosi, sono curiosi. Oppure, oppure che questa innovativa strategia lo sta creando perché sottoscrive l'innovativa strategia che batte il mercato. Ma la CNBC? Ma ti pare che è l'Huffington Post? L'Huffington Post non credo, ma la CNBC è grossi. Magari quello italiano, quello italiano, non lo so. Ma la CNBC no, Tommy Marangoni non va alla CNBC. Con tutto il bene che poi ha fatto Marangoni. Ok, l'innovativa strategia è batte il mercato. Leggila tu, leggila tu. sta promettendo a più di 1800 persone, sta permettendo, cambia tutto, di lasciare il lavoro, guadagnare 10k al mese in 60 giorni, con le cripto usando il denaro degli altri. Ma che cazzo vuol dire? Ah, bello, 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 bello. Prenota, analisi e strategie. Siamo a parti, ma sul serio? ABC News, NBC? Ma dove? Io lo devo fare vedere alla Consob, questo sito. Io devo mandare, devo fare una live reaction con un dirigente della Consob e gli devo dire, ma... o magari anche Nathan Falco Briatore è apparso perché c'è la notizia, giovane under 12 ha i suoi NFT, inoltre il figlio di Briatore, Qualcuno ti ha scritto, vedi? P-Consulting fatturato 61k a Palanno. Non faceva milioni. Ok, sempre Federico Stompo. Ok. Vabbè, dovrebbe aver verificato il bilancio visto se effettivamente è quello. Ok, ma vediamo sempre un secondo per divertirci. Come hanno fatto più di 1800 persone comuni con un lavoro normale a incassare. Che poi, aspetta un secondo, comunque più di 1800 persone e questo qui è già una lente in piegge che è stata tolta, E qui magari era più bambino. E nelle storie attuali qui dice ancora più di 1800 persone. Sono rimasti gli stessi. Sì, non ha avuto un incremento. Immaginavo che se sta roba fosse scalata a un certo punto avrebbe avuto più di quelli là. Qui erano 1800 se non sbaglio da qualche parte. Sono abbastanza convinto che ho letto 1800. Sì, sì, anche io l'ho letto 1800. Sai dove? Sul profilo Instagram. Sul profilo. Ok, lei non l'ha aggiornato. Poi studenti, attenzione, studenti quindi sono tutte persone che hanno lasciato il lavoro. Lui lo scrive nella landing. Sono tutte persone che hanno lasciato il lavoro. Pensa se fosse vero i danni che sono stati fatti a qualche ragazzino. Sare 3, 5, 10 mila euro al mese usando il denaro da lui e lo fonti cripto ma che sta cosa usare testimonia cioè tu mi stai vendendo un corso su come fare trading di cripto e vabbè ma parti ti presento Gabriele che lui ha 200k sul conto a me che cazzo me ne frega onestamente. Io voglio capire che tecniche spieghi che tecniche c'è così di c'è se no sembra quella cosa di medicina alternativa che dice ah Germano si è fatto i clisteri di caffè ed è guarito dal tumore ok le prove cliniche cioè le analisi prima e dopo che Germano può essere pure un attore pagato per far sta roba. ma può anche essere vero ma su 1800 studenti me ne porti tre che hanno fatto i top tre anche se lanci monetine a caso i top tre hanno fatto successo gli altri 1797 che hanno fatto? Ma poi le slide neanche a schermo intero messe così vabbè vabbè cioè capito cioè la presentazione la tesina l'avrà fatta sto ragazzo sì ti permette un'entrata extra da bellissimo non hai tempo di attesa di insegnare già da subito al massimo un'ora al giorno tranne quelli che fanno assistenza a 24 sì sì non più di un'ora al giorno anzi se fai di più guadagni meno cioè più lavori meno guadagni non ci dice nulla non ci dice nulla ovviamente dirà soltanto prenota la chiamata con la media lui anche tre anni fa era povero a 13 anni e questo ragazzo in terza media sanamente era povero quanto ha fatto al mese passata a 2.8k a 200k per un anno sono entrate non sono patrimonio quindi non funziona vabbè questo qui comunque è andato di Pento Simone ma poi tutto questo successo e perché la lending non c'è più perché è chiusa questa roba qua è finito hanno chiuso per sempre come Big Luca chiuso le vendite ma io voglio partecipare fai 200k partendo da zero i video non ci sono più hai visto ci sono alcuni video delle testimonianze che non ci sono più guarda è privato privato strano strano vabbè siccome questo è il motivo per cui questi qua vanno solo con DM su Instagram perché preferiscono bravo con cambiando una cosa non esiste più cioè non esiste più nella tua storia ogni volta rifarti la virginità è come avere che ne so un non dico cose porno ma poi è come avere non lo so hai presente quando fanno la formula 1 quelli che hanno tipo sul casco che tu strappi una e ci vedi no? e hanno la virginità che strappa e sono virgini è nuovo no ma è bello qui 1,4 milioni a 16 anni ha dovuto aprire SRL è stato costretto troppi soldi e ha dovuto aprire un SRL per gesti milioni poveraccio esatto ok vabbè io questo bottone che sta muovendo mi sta fai nel team male quindi Tommy Marangoni diciamo che diciamo che non ti presenti proprio benissimo non ti presenti proprio benissimo poi i classici questi che tu li hai commentati tante volte si scrivi che non significa un cazzo si dice dashboard che sono quelle di Shopify 52 62 che cazzo vuol dire ma che è ma che mi dovrebbero dimostrare sta roba cioè per me tutto da sanzionare questo è tutto da sanzionare vediamo un po' questa cosa che promette qua vabbè nulla più 13 mila singole realized ok 25 per in leva ragazzi tanto vi ricordo che se vai in leva 25 per se perde il 4% hai brasato tutta la tua vita ti ruoli risparmi quindi ok tutto a posto tutto il 25 non c'è uno è leva leva 30 short 20 short va va allucinante ok luke 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 mi amico luke luke marani il prossimo la edizione a misteri per germano ciao ragazzi grazie filippo anche a fuori ah volevo parlare di questa cosa qua ho visto che il tuo canale sta andando alla grande solo che l'ultima live ho visto che hai ricevuto una valanga di salvi di abbonamenti solo che mi sembra che qualcuno sta cercando di comprare l'indulgenza di germano vogliono comprarsi i fuflix tanti personaggi che spesso ti rivolgi pure contro che si vogliono allora la scorsa live è stata un boom ha fatto un boom a parte proprio di persone live ma di donazioni spot e di abbonamenti e in realtà circa 450 abbonamenti sono stati donati da Luca Valori Tinder o Battaglia e Nicola Napolitano ne hanno dati 50 Valori solo ne hanno dati tipo 300 350 non ricordo e ti ti lo fanno perché così ti fanno vedere che non hanno paura di te è anche una come dire una prova di forza guarda io ti do 300 abbonamenti per me non sono niente dei regali è più un ti finanzio così che tu non penso che lo facciano per non avere le inchieste su di loro magari è per poi non è tipo quelli che fanno bombardano di iscrizioni o di finti account e poi dicono ecco bravo sei cresciuto tanto ma tutti quanti soldi non lo so comparsi di indulgenze io voglio sperare per loro la loro reputazione che non siano talmente inetti idioti e illusi da pensare che mi comprano con questi spiccioli c'è gente che mi ha offerto molto di più negli anni per farmi star zitto non far rompere le palle quindi figurati se 300 abbonamenti mi comprano però io ti dirò ti lancio gli lancio una sfida io a loro farò fatica a cercare di non essere di non essere denunciabile ragazzi lo so io cammino non so come Germano mi ha detto guarda Giorgio non puoi dire queste parole non puoi dire quest'altra un po' di dire dopo se no potresti essere eh lo so io sudo perché non ho gli avvocati non ho è un casino no ma ti dico la mia provocazione c'è chi ha suggerito perché non tipo non si può fare questi soldi ma è una cazzata per aiutare quelli che stanno raggirati da questi personaggi invece che che ne so può sembrare quasi un a parte che questi soldi vanno a una SRL e vi voglio vedere a fare SRL una donazione a un tizio a caso perché lui ha perso i soldi da Luca Valori o da tizio altro tra l'altro se ce ne sono dieci io ne posso non è che mi hanno dato un milione di euro parliamo di 300 euro quindi cosa devo rimborsare a chi ma poi è molto meglio invece lo schiaffo è che uso quei soldi per sponsorizzare il canale e magari sponsorizzare un'inchiesta contro uno di questi che hanno dato gli abbonamenti e quindi è quello la grande la grande libertà dire ok tu mi vuoi fare gli abbonamenti io ti ringrazio bene mi serve al canale aiuti altri incentivi altri ad abbonarsi e per questo vi dico ragazzi è importante che si abbonino tante tantissime persone singole lo sborone si e ti regala 200 abbonamenti perché sono 200 abbonamenti però io uso quei soldi per finanziare il progetto e magari un domani ci sarà una live su Luca Valori con alcuni testimonianze che io sponsorizzo quei 300 euro che ha donato lui quindi top per me top poi non te donano più però è un casino e beh sti cazzi per fortuna non vivo delle donazioni di Luca Valori se no dovrei cambiare farei prima di andare da uno di ore e dire ragazzi quanto mi date se io mi tolgo se io chiudo il canale e faccio altro nella vita secondo me raccolgo un bel po' di soldi se faccio questo tipo di ragionamento qui ma non mi interessa minimamente come ovvio e quindi procedo così comunque Federico dobbiamo collaborare un po' di più perché lui sta diventando una sorgente di informazioni ah i bodyguard se lo vuoi vedere se lo vuoi vedere c'è qua un video io l'ho anche commentato stile già l'app grazie Stefano grazie per la donazione molto molto gentile ciao Stefano Stefano grande top donator anche di Fufflix dicevo Napolitano mi fa tra l'altro lui ha donato 50 sub Napolitano forse abbiamo un contributo qua eccolo eccolo bravo eccolo qua ho fatto poi prima problemi di deambulazione uno di due il bodyguard vedo che cammina male ma non qual è il senso di questo video adesso no aspetta il senso c'è il senso c'è arrivano a un cantiere e vanno finalmente a lavorare quindi lui come è serio guarda guarda come è serio eh vedi il cantiere vedi sta andando al cantiere e finisce è finito a che è servito sta cosa non lo so tra l'altro la Lamborghini se vedi la targa la Lamborghini se vedi la targa è una di quelle che si noleggia sono di quelle noleggiate sì sì è chiaro è chiaro che si noleggia anche a ore a questo punto direi che ha già vinto ha già vinto sono solo gli ultimi posti disponibili come sempre però gli devo dare atto questo sito non è parte di metal almeno lui è aggiornato scrive metal è aggiornato scrive la buttanata ma la scrive poi c'ha una LLC LLC quindi non sta a Dubai in UK lui vive penso la LLC è americana americana delaware delaware sono di solito tutto nel delaware quindi vedi tu che incroci italiani che vivono a Dubai vendono gli italiani hanno l'azienda in delaware bellissimo è tutto è tutta qua la pace voglio una landing page più brutta voglio non mi accontento poi non c'è un cazzo qua il guadagno passivo ogni singolo mese italiani stanno sfruttando sai sembra quelle pagine di scam dei bitcoin che dici scopri un nuovo metodo che sta rivoluzionando la vita degli italiani le banche lo vogliono dammi qualche teaser dimmi quanto percentuale guadagno così è poco vedo ok done4u ah done4u.com ci sei andato prima non ricordo done4u si si nn trattino done4u è una povera cazzo va a comprare dan4u direttamente creiamo cos'è sta roba creiamo lanciamo e scaliamo scaliamo il tuo e-commerce ok 100.000 euro in una settimana 110 non hanno commenti guarda solo like si vediamo se almeno se i like sono sono ragionevoli una volta ho visto uno che ha soltanto modelle russe nei like il trading sono solo modelle russe quelle che si comprava in quel momento lì non si può fare marco infatti nel senso che però qui qual è il tema il tema è che rischi solo se vai negli Stati Uniti e ti fanno un controllo se non ci vai dichiari perché tu se apri una lc negli Stati Uniti e risulti amministratore di quella società devi stare lì ok cioè non puoi aprirla dall'Italia un'azienda nel Della e tu vivi in Italia però se non vai in America diciamo una volta per tutte che gli screenshot non servono a un cazzo gli screenshot non servono a un cazzo primo perché sono parrocabili secondo perché anche fossero veri ripeto se hai 100.000 studenti i tre di successo ce li hai per forza fine Bobbo questo qui diciamo che lo lasciamo così vediamo se poi un domani arriva altra roba su questo personaggio no ma ci dobbiamo vedere Luke Luke Marani amico mio Luke Marani vai andiamo su Luke Marani tu mi hai linkato un video su YouTube mattino come tu che è un po' lungino contesto contesto una giornata com'è il titolo grazie ancora il titolo è un giorno nella vita di uno dei più giovani milionari italiani vedete fatto da se stesso fatto da lui il video è lui che fa il video zero commenti per ora cammino verso la libertà finanziaria guadaglia è tanta roba questa però c'è la videoguida di 12 minuti che ti mostrerà come creare la tua entrata automatica immagino 12 minuti poi un cammino verso libertà finanziaria ok vediamoci questo video e al mattino come tutte le mattine preparo uno shaker e sti cazzi e voi mi direte perché ti fai di shaker a dubai fuori ci sono 40 gradi la mia costituzione corporea deve un attimo aumentare che poi io parlo con qualcuno che sta a dubai cioè non è che non è che sia proprio una figata sta a dubai diciamoci io non ci andrei mai però è una questione di gusti lì siamo nel degustibus ok lì siamo nel degustibus poi ci attaccano dicono tu non ci sei mai stato c'è il pregiudizio però io non ci andrei mai per un milione di motivi non ci andrei mai a vivere lì da ricco viverei vivere no tutt'altra parte un giretto prima o poi voglio fare sì sì pure io ci voglio andare fu flicks a dubai ci deve andare cioè non possiamo non andare a dubai devo raggiungere almeno sette chili più entro la fine dell'anno ma non ce ne frega un cazzo almeno sette chili tra l'altro valli a mettere no ma poi vedi sempre roba sette chili su quella costituzione in un anno vuol dire che questo si deve andare tutti i giorni seguire una dieta rigorosissima si deve uccidere perché sette chili di muscoli di massa che ci sarà anche poi cioè difficilissimo obiettivo difficilissimo perché lui di costituzione è piccolino un sette è un numero a cazzo un numero a cazzo sì sette non sei non cinque sette chili questo sette c'è tutto Luke se vuoi te li do io io ne ho ne ho ancora un bel po' da regalare di chili oppure ne posso dare se ho sette sono solo quelli che devo perdere che ancora una volta posso riuscirci tutte le cose che ci prendiamo davanti alla nostra vita che parte la prima mattina quando ci svegliamo quando dobbiamo affrontare il gusto che discorso motivazionale cazzo aspettate un secondo era il 30 novembre entro fine anno sette chili ok in un mese mette sette chili questo non so come fa ok va bene tu sai già dove possiamo andare a vedere sì allora ti voglio far vedere sì vabbè la parte dove lui dice vado a fare la barba qui prendo la macchina no andiamo nel suo ufficio che lui è un milionario voglio far vedere l'ufficio del milionario è Dubai è l'ufficio del milionario vediamo un po' eccolo qua eccolo qua aspetta no aspetta aspetta l'orologio l'orologio fai la parte dell'orologio che è molto cringe ecco qui qualcuno li può rubare questo dovrebbe essere si chiama non mi ricordo AP non sa neanche come si chiamano neanche Elisa no è allucinante è quello che gli era affittato non era magari l'ha comprato questi soldi ce li ha a George questi soldi li ha fatti poi possiamo spiegare come Paolo good point forse mostrano inutilmente a Dubai per averle a prova all'agenzia delle entrate che sono residenti all'estero per almeno 180 regioni questo è se viene ammagnata la minota li prende 12 kg in 7 giorni in 7 kg e questo invece è un Rolex è un Rolex non so quale un Rolex questo è un Patek io li prendo più che altro come investimento come mi piace portare ah come investimento ma un momento già gli orologi come investimento ok vabbè c'è chi lo fa possono avere dei ritorni a mio avviso sono leggermente meno inefficienti di tante altre forme di investimento ma poi dovresti capire Giorgio un minimo di orologi secondo me per fare investimenti su orologi sicuramente ma soprattutto se tu adesso ci racconterai che c'è un business che fa 300% in un quarto d'ora di che li prendi perché ti piacciono gli orologi non come investimento che investimento sarà sfigato è che mantengono il loro prezzo con l'inflazione per 10 anni cioè se tu comunque hai un business che fa il 100% ogni tre quarti d'ora sì passivo tra l'altro ti devi agli orologi assicurarli tenerli dentro una teca fai dirlo che ti piacciono gli orologi poi lascia lì sul tavolo l'investimento capito lascia lì veramente sul tavolo che vabbè a Dubai non c'è criminalità si dice non danno Ciro Ciro from Napoli grande ah che vedi vedete ragazzi vabbè vediamo un po' adesso lui fa vuoi iniziare anch'io vabbè dai mi darei qualche dritto in ufficio adesso diamo un occhio e dov'è che c'hai in ufficio andiamo a vedere l'ufficio JLT eccolo qui ecco l'ufficio hai detto entra in ufficio intanto mentre entra fa un miliardo giustamente tanto più stare insieme assaporare insieme i risultati vivere insieme la soddisfazione oh uno screenshot a caso di non adesso un'immagine stock è questa che veramente facciamo immagine stock immagine stock che non ha una foto di lui con i suoi collaboratori la prima immagine stock nel frattempo diamo uno scroll agli storici una mattina nuovo progetto che abbiamo lanciato nel mercato stiamo facendo dei bei risultati ma alla fine è un po' quello che facciamo ogni giorno fanno rita quando sti fuffetti parlano di espandersi da altri mercati un po' come anche Big Luca parla di espandersi dal mercato non si ricarica nessuno in nessuna lingua che sia diverso dal dialetto locale che loro parlano si si dal italiano ma proprio ma te lo immagini sul mercato tedesco tu un po' la nostra routine qualcosa di molto semplice non voglio oggi è arrivato in ufficio siamo un po' di persone amici collaboratori che stiamo insieme non voglio flexare quindi non fate caso al casino ci sarà un po' di bordello vediamo la scrivania di cristallo un po' di digitale per entrare un ufficio da milionario sicuramente qualcuno qui che scambia ok allora qua c'è un tristissimo ufficio come ne puoi trovare uguali a Caivano cioè senza andare fino a Dubai a Caivano Marcianise le quali la strada le opinioni in maniera ecco qui talmente free questa è la mia gli scrivi non mancano e cominciamo a lavorare un po' il lavoro che facciamo è da non cercare gli stori il lavoro operativo si conclura ok cioè cazzo sei milionario e hai la postazione dove non c'è neanche un po' di privacy fondamentalmente perché cioè è così così gli altri vedono gli orologi ah non si hanno neanche portati gli orologi gli altri dipendenti lui sta così con l'orologio se l'è tolto vedi non ce l'ha l'orologio non ce l'ha più il Patek vedi che non ce l'ha vedi che l'ha lasciata a casa si magari poveraccia è entrato in un call center sembra un call center in Dubai manco lo conoscono avere la soddisfazione di alzarsi ogni mattina e vedere certi numeri sullo schermo guarda che bello nessun lavoro è così nessun lavoro ti alzi vai lì e hai la soddisfazione delle macchine ah cazzo oggi quanto ho fatturato vedere anche quello che è il ticket medio fare un ottimo di statistiche fai sentire la telefonata che ci sta mi ha passato di matematica come stanno andando no no aspetta vai un po' indietro vai un po' indietro un po' indietro è quanto immediato quanto sia semplice avere un negozio automatico che lavora al posto nostro è quello che ha permesso a me di arrivare nella città di Dubai di cambiare la mia vita di farvi vedere questo video per farvi capire assaporare effettivamente cosa significa lavorare ad un altro livello però senti che dice vivere in maniera slegata dal lavoro ecco senti senti abbiamo una chiamata in questo ufficio abbiamo una cabina apposta che l'abbiamo pensata per isolare tu dall'esterno no dei geni c'è solo loro ce l'hanno questa cabina c'è ovunque c'è mai vista una cosa del genere una cosa innovativissima un contasoldi hai capito non c'ha un cazzo di ufficio suo personale chiuso dove può parlare come ce l'ho io poveraccio sfigato l'ho sempre avuto io da anni a un ufficio da solo ok lui deve chiudersi in una cabina isolizzata mi ricorda non so se tu te lo ricordi tu sei un po' più giovane di me quando c'era Neri Marco Re che imitava Alberto Angela se te lo ricordi se avete la pazienza di seguirmi e lui andava in cose tipo faceva finta erano antichi resti romani ragazzini e buttano le cartacce per terra per lui mi sembra come del tipo adesso che ufficio innovativo sta dentro un call center adesso abbiamo un sistema innovativo per poter parlare entra dentro una stanzetta entra dentro uno scapuzzi il milionario che non ha un cazzo di ufficio suo con un tavolo un divano di 30 metri quadri allucinante bellissimo c'è chi dice che l'audio è troppo alto del video ma non è vero secondo me io lo sento bene ci sta ci sta ci sta in Olanda 10k day quindi top guarda il tecnico il tecnico ricarica tecnico ricarica la linea di credito di facebook credo non lo so arrivano riparano il frigorifero e poi già che c'è che poi non si ricarica è sempre la stessa al massimo chiedi un upgrade del credito cioè di alzare il credito non è che la ricarichi quindi vabbè la ricarichi pagando fai sentire quello che dice adesso che è carino poi vediamo la parte piscina dai ottimo ascolta fammi fammi parlare fammi una call come se vai quando c'è morigia che giorniamo facciamo tutto dopo guardo comunque c'è doniziano grande boss a dopo bene ragazzi come avete visto siamo settati cerchiamo di fare settati siamo settati certo cioè hai 40 persone che lavorano per te e sei tu che guardi in agenda dove mettere i meeting vabbè a parte quello lì poi 10k in tre giorni 10k dei subito di incasso poi lui dice che il pomeriggio deve fare sta call col media buyer no? per confrontarsi senza segretaria tra l'altro si si fa tutto lui però poi che cosa succede se vai avanti che è comico cosa succede il pomeriggio si scorda della cazzata che aveva detto la mattina perché in realtà il pomeriggio lui ci flexa la piscina qui ci flexa la terrari ha frappato la macchina e ci siamo andiamo andiamo al raffle raffle sulla palma allora aspetta più che rubata sciolta è già stato qua ma vengo spesso vabbè qui margiano non ha fatto un cazzo cioè lui è arrivato al lavoro ha visto i dashboard belle è andato in una cabina ha parlato col suo amico e ha detto tutto bene perfetto è poi andato a mangiare si si stiamo facendo i soldi boss allora tutto ok così funziona poi spacca ecco un pomeriggio tranquillo in piscina fai vedere un attimo la view un pomeriggio tranquillo in piscina ma come siamo sul petto dell'adress direi che merita ma ci prendiamo un pomeriggio in piscina mangiamo qualcosa mangiamo qualcosa ma non lavori nel pomeriggio però la mente poi comunque adesso c'è caldo ancora ancora un po' caldo quindi quindi non lavora non è stato un po' caldo cosa 20 anni fai miliardi al minuto ora adesso io mi aspetto questo qui fra altri 10 anni lo vedremo ai livelli Elon Musk cioè nel senso che se tra 10 anni sì sì un miliardario tra 10 anni in galera è un miliardario ma se lo mangiamo è un primo comunque il pomeriggio non lavora quindi l'appuntamento è saltato puttanto le 16 è andato perché lui è andato è andato 500 euro 500 euro a persona l'ingresso non è accessori sono circa 2000 di rama testa sono 500 euro che cosa? solo per un giorno in piscina per un giorno in piscina ah per la piscina costa 500 euro al giorno un po' d'azzi un po' d'azzi sì sì però è un ad e gli ad si pagano certo nel senso alla fine è uno di quelle no però lui poi dice abbiamo finito che lui in realtà è gratis perché ha anche la stanza d'albergo e paga 750 al giorno e quindi la piscina con tutto il resto attorno è un po' sbilanciato te la regalano la stanza esatto bravo la piscina 500 euro e poi 750 la stanza con piscina inclusa che ne possiamo capire noi che non siamo milionari di ste robe vabbè 400 euro di sushi vediamo un po' ci abbiamo qualche altro vediamo cosa voglio capire io voglio arrivare alla la D la D che ti ho mandato Gio la DV che ti ho mandato sì 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 questo qui questo qui bellissimo eccolo quanto ero a lavorare al giorno guarda in realtà non lavoro più mi sono licenziato ormai da tre mesi e cosa fai per mantenerti ho scaricato un sistema che praticamente lavora al posto questo è lui è sempre sì sì è lui è lui Prometheus colino sì sì è lui se vado sulla pagina ok quindi lui è questa roba qua no ma non faceva e-commerce 7 stelle 350 piscina compresa questo è la sua pagina il miglior business online Prometheus advertising sì e questa è la pagina da cui quel reel è preso 251 like nota questi continuano a cancellare e rifare pagine da zero perché ovviamente la reputazione se la bruciano subito se non vengono bannati prima ma quindi non faceva e-commerce sì sì fai e-commerce fai e-commerce senti 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 quello che c'è fa guadagnare giornalmente e in che senso lavora al posto tuo è praticamente è un'applicazione che vende al posto tuo in auto applicazione prodotti online e tutti i soldi arrivano sul mio conto io non faccio niente questo è quello che ho guadagnato oggi questo è Shopify questo è Shopify quindi questa applicazione automatica che vende i prodotti al posto tuo non si capisce che cazzo è questo è un dashboard di Shopify ok che non significa una sega tra l'altro significa nulla tra l'altro non riesco a ingrandire lì c'è scritto qualcosa nell'arancia ci sono sì allora facci sapere aspetta provo un attimo a mettere più grande 50 ordini da evadere sì io leggo 50 ordini quanti ordini sopra sotto 6.6 90 ordini quindi scontrino medio stiamo su diviso 100 fa 70 73 euro a ordine praticamente ovviamente non fa vedere altro vi spiego una cosa Giorgio domani faccio la stessa dashboard con 100.000 euro facendomi 100 ordini da 1000 euro da solo usando il cash on delivery cioè dicendo che li pago quando mi arrivano e Shopify mi segna le vendite in questo modo quindi questa dashboard fatta vedere così non significa un cazzo mi dovresti dire cosa vendi dove vendi che prodotti so se ci so dei resi ok così non significa niente un'altra cosa che a me è un layer che non riesco a capire cioè se io avessi uno shop sarei orgoglioso di mostrarlo cioè di dire cazzo ragazzi vendo vendo bottiglie d'acqua vendo vendo cappellini qualcosa io direi guarda che figata ragazzi ho questo negozio comprate invece chi fa e-commerce cerca il prodottino preso da dropshippato da Aliexpress sovrapprezzato e non lo vuol far vedere se no gli rubano l'idea questo è il concetto questo è quello che ti dicono e lì tu giustamente mi potrai dire Germano ma se qualunque idiota può rubarti l'idea significa che di fatto il tuo business model non esiste perché è una barriera oppure stai abitraggiando stai abitraggiando finché c'è margine o sei la coca cola o sei la coca cola i fidget spinner vanno per un mese io li sfrutto quando poi non vanno più perché tutti ce li hanno ti vendo il corso su come fare lo store dei fidget spinner o cazzata del genere sì oppure sei la coca cola dici ho la formula segreta non la rivelo perché è un segreto industriale no ma qui non penso sia quello il caso ok vabbè però comunque lo store esiste qualcuno ci va sopra e compra prodotti per cui non è che non ti rivelo la formula per il prodotto ma ti rivelo il prodotto ti dico vendo coca cola sì addirittura la scusa di Riccardo Zanetti col quale ho fatto una live come sai quando parlava di Luca Valori diceva sì poi lo store è andato una bomba sta andando bene però l'abbiamo spento per evitare che gli hater andassero sullo store e sulle pagine fan quindi tu hai un business che funziona però per colpa degli hater lo devi chiudere perché sennò gli hater vengono ok good point andiamo avanti vediamo un po' c'è sembra un sogno ma posso farlo anch'io? se hai 5 minuti ti faccio vedere dai grazie non ascoltare questo video sarà il tuo più grande impianto perché il segreto per avere un'entrata extra da casa lo puoi scaricare oggi gratis da un'app sul tuo cellulare tutto parte da una semplice tutto bene hai capito bene esiste un'app che ti offre la possibilità di guadagnare come un medico o un avvocato dedicando appena due ore a settimana e ciò che devi fare è inserire l'immagine di un prodotto all'interno di quest'app e automaticamente verrà messo in vendita in tutto il mondo grazie a centinaia di influencer con l'immagine c'è un dildo con la faccia di Vanna Marchi quello che l'hai messo in vendita c'è Ramengo scusami Giorgio Ramengo mi scrive ci tengo Ramengo Timeli hai detto che hai venduto per milioni con gli e-commerce ma quali sono questi e-commerce? perché tu hai degli e-commerce? sì sì io da anni ho gestito i e-commerce conto terzi milioni e milioni di euro fatturati negli anni a 2016 che gestisco io ho i e-commerce miei ho avuto in passato e ho tutt'ora di e-commerce miei tra l'altro sai sembra quelle domandine insinuatorie dove sono questi cazzo Ramengo li ho citati un triliardo di milioni di volte a differenza dei fuffini cioè abbiamo un link così lo facciamo vedere adesso adesso diranno che mi hai fatto fare pubblicità all'icom in realtà lo condizzo tante volte retouchzone retouchzone.com noi vendiamo programmi per il fotoritocco retouchzone.com è dal 2019 eccolo qui è questo qui sì basta ok ci sono i nostri panel i prodotti trovate incredibilmente la partita IVA e soprattutto non c'è la scritta di Facebook e Google che non sono prodotti non c'è sul sul sito sul sito nostro tra l'altro stiamo per lanciare un prodotto totalmente nuovo che si chiama Zero Retouch che è in cloud ed è uno stand alone a differenza di questi che sono integrati dentro Adobe spero di aver risposto a Ramengo e non ho paura che qualcuno mi copi il business e io di Ether ne ho non pochi di gente che no però il business c'è lì lo potete lo potete andare a vedere se vi interessa qualcosa ammesso che interessi qualcosa ma io ho lavorato per sei anni in agenzia facevamo questo fai un botto di roba cioè tu hai pure aperto un'agenzia si è un punto di dire sono affitti dimmi dico quindi attività giornalistica quanto tempo come diciamo una piccola parentesi germano l'attività giornalistica quanto quanta percentuale di impegno considera che per tutte le attività che io ho quello che faccio è la comunicazione la gestione scrittura di articoli la parte di brand journalism di relazioni media relation tutta la digital PR tutta questa parte qua io la seguo per le società mie e quelle dove sono socio sempre in caso sono affitti in realtà ancora non ho quello che ho fatto è stato poca roba perché io ho proprio agito da investitore puro cioè l'ho aperto l'ho delegato con due persone che ci stanno lavorando dentro e ti dirò è il modo per investire i soldi qui abbiamo una parentesi enorme e dove hai il rischio più alto di falli quando tutti dicono no ti dicono ma tu delega usa le vateri vai a delega un business che sta appena partendo da zero perché tu non hai tempo di seguirlo cioè è difficilissimo difficilissimo e rischiosissimo eh Federì scusa ma oggi abbiamo rifatto un po' la parte luci ogni tanto saltano qui l'hai legato boh vabbè scusa Germano vende gli stacco un po' di lord del canale Germano è socio è socio unico mi stacco la nana certo certo non sono socio unico io ho anche dei soci in realtà siamo in due a breve saremo in tre ci sarà anche la società che sta sviluppando il prodotto il problema di questi corsi è che le pre-inglese sono talmente basse che il mercato diventa super inflazionato è pieno di concorrenti con le bricele magari alcuni settori profittevoli ci sono ma assolutamente il metodo in cui lo vendono è fuorviante ma io mi chiedo questo qui mi sembra questo Luke Maranity vuol vendere un e-commerce chiave in mano no? che è una specie di copy trading dell'e-commerce bravo guarda facciamo così tu metti soldi non devi fare niente e hai dei profitti altissimi ma che cazzo devo dare a te cioè perché dovrebbero farlo qual è un motivo per cui dovrebbero farlo ma è neanche diversificazione no? almeno ti insegno le cose mi dai un bel 1997 euro e tu poi fai fai quello che vuoi io ho forse soldi qui sto soltanto dandoti del profitto per nulla ma ti dirò di più io ho le prove che alcuni di questi che fanno i done for you sono un po' tutti ma quelli che ho le prove io vendono a me a te e altri quattro lo stesso identico store clonato copia e incollato con un logo diverso sul serio lo stesso prodotto fatto in serie fatto in serie ok? e tutti mi dicono non vendiamo un cazzo cioè perché a me però funzionano che te frega se funzionano fai i cloni funzionano comunque c'è una fetta di mercato da spartizi no? se facciamo lo stesso prodotto stesso prodotto stessa lingua stesso mercato stesso budget stesso template stesso prezzo cioè è chiaro che non può non può funzionare ok su questo non sono d'accordo a parte io ho un problema io spesso voglio andare a chiamarti Gennaro non so perché mi hai chiamato Gennaro su questo non sono d'accordo se fa solo e-commerce non c'è nulla di male il problema è che ti parlano di e-commerce che fanno profitto sicuro in una perioda pazzesca allora io penso che non ci sarebbe nulla di male nel dirti guarda io ho dei negozi online ti spiego un po' come si fanno come si fanno i negozi online ti do tutte quante le cose che devi saper fare come fare esatto come cercare un buon prodotto come fare pubblicità come non lo so come fare marketing così e via poi dopo tu hai la tua idea la porti su se ti do un negozio chiave in mano c'è un controsenso se funzionasse non te lo darebbero se te lo danno è perché Giorgio ti faccio una riflessione io e te siamo tu sei investitore ok sei il mio investitore mi dai 100.000 euro io ti propongo un'idea di e-commerce la sviluppiamo insieme facciamo un tool quello che sto facendo è un tool di stand alone va una bomba facciamo 2 milioni il primo anno secondo te io e te invece di concentrarci su quel cazzo di business che va bene ci mettiamo a fare un corso per spiegare a altre persone come replicare il nostro modello cioè il senso quale sarebbe di fare una cosa del genere quello pure pure ma ok no primo perché se sei se brinne page stai dentro un garage e sei passato da 0-2 milioni vuoi far far nascere google non ti metti ci fermiamo e facciamo le ads su facebook ma pensa se poi invece io e te dicessimo adesso se tu mi dai a gente a caso mille euro ti do lo stesso business cioè perdo tutte le possibili revenue per darlo a te per due briciole lo do a te garantendo di profitto io ci ho lavorato lui lo dice io ci ho lavorato anni ci ho speso un sacco di soldi quindi te ci abbiamo lavorato anni ci abbiamo speso 300 mila euro lo diamo alla signora Pina da Castel Pusterlengo a 5 mila euro ma perché cioè perché questo è vero Luca Bruno fantastica osservazione il problema è che promuove un approccio pericoloso alla vita dove studio gavette e sacrifici non sono mai contemplati esatto però poi tranne nel fine print nelle clausolette che ti dicono guarda in realtà questo è marketing material poi dopo tu devi farti un bucio di culo così e se non lo fai chiedi un refund eh ma tu non hai effettato il massimo non ci hai creduto abbastanza non è il mindset sì non è il mindset sì non ti sei fidato di noi fino alla fine qui ti chiedono un parere vedi un parere su Matteo Sabba te l'hanno già chiesto tre volte io ho evitato di espormi più di tanto perché tengo famiglia cioè questo non è piacitofonare questo viene a citofonare io faccio casa e chiesa tengo famiglia per cui abbiate pietà abbiate pietà ce l'ho anche io e tu sai è uno che viene a citofonare quindi ho paura fisica ma non tanto che lui faccia qualcosa ma che io faccia qualcosa perché cioè io sono un po' irruento se arriva qualcuno a citofonarmi è un problema per cui facciamo così sconsiglio di investire in oro grezzo diciamo questo sconsiglio mi sconsiglio di affidare di affidare a lui i vostri soldi diciamo questo lo puoi liberamente dire diciamo che sì dai diciamo che sì sconsiglio di io direi che mi sono ampiamente espresso sul pregiudicato quindi non mi ripeterò anche oggi perché mi sono ampiamente espresso ed esposto sul pregiudicato io non ho esperienza con Frank Merenda Frank Merenda mi ha contattato più volte per fare qualcosa assieme ma ho declinato ovviamente grande Frank Merenda a te vorrei chiedere una cosa Germano anche a me mi ha contattato Guru Lantia però ho declinato sì perché declinato perché declinato perché perché è marketing per un corso di merda di cappelli poi vedi dopo sì è marketing è un corso di merda di cappelli e io io no il mio alter ego a me dispiace che è un profilo Instagram l'ho pure un po' trollato cappelli ho fatto il funnel del suo corso che è il funnel classico fuffaro in cui anziato arriva dammi la mail per vedere la lezione gratuita che poi dopo però linka a un'altra cosa e la lezione gratuita è il nulla ovviamente è come sempre potrebbe stare potrebbe stare in questa lista e forse ci sta forse mi pare che l'ho letto Marco sì sì ci sta quindi a me mi sono detto ci vado a dare visibilità a in realtà ti dico qual è il mio ragionamento a parte lui io sono stato proprio penso il terzo proprio agli inizi del suo format e lui mi disse non mi disse che voleva vederci un corso mi disse ovviamente lui lo intuisce non è che te lo deve dice io lo faccio per il mio personal brand perché sai voglio crescere questo è un progetto di comunicazione che per me ok però io lo sai se tu vedi i commenti sotto al mio video alla mia intervista se tu ti vai a leggere i commenti sotto al mio intervista sono bellissimi cioè no ci sta io l'ho usato tu stesso hai detto sì sì dimmi scusami tu stesso hai detto che quando sei stato l'ho rivista poi la notte la live dopo Mick Cosentino no? hai detto che lui ha fatto un talk a quell'evento in cui ha fatto vedere proprio quali gli hanno portato più iscritti io per fortuna non c'ero non gli ho portato un euro Davide Marra lo devo dire Davide Davide gli ha portato un botto di iscritti lui ha detto mamma mia mamma mia non sono fatto una merda io sono andato una merda e lui mi ha portato tantissimi iscritti sulla piattaforma ok va bene facebook è lui che ha fatto pubblicità a me in quel caso e ti dico una cosa vabbè io poi faccio anche un lavoro diverso cioè facciamo cose diverse io e te no cioè a me se mi invita io sono andato da Barbara D'Urso a parlare quando lavoravo con Marco Baldini per quanto io cioè è un tipo di televisione quello che non farei mai però se tu mi inviti in un posto a dire la mia e mi lasci dire la mia e loro devo dire l'hanno fatto hanno provato pure a farmi il trappolone però mi hanno fatto parlare hanno ascoltato un parere che era opposto a quello di tanti che hanno invitato e io mi sono preso lo spazio cioè dove mi inviti io ci vado cioè per dire ti ho sentito a Matteo Sabba cioè capito sono andato ospita a lui quindi perché all'epoca prima live che lui fece dove di fatto mi urlò solo contro senza farmi parlare però ci andai quindi io non è che mi tiro indietro a prima perché ti cazzi vado di io diverso cioè non lo so ma ci sta anche credo che credo che per certi personaggi il parlatene male purché se ne parli funziona per cui preferisco neanche parlarne sì sì ho capito o non dà visibilità tanto va bene così vabbè ok parentesi chiusa e ok cosa hai pensato di Mic Cosentino Germano ci ha fatto una lunga live due ore di live che trovi sul canale Mic mi ha querelato nel 2020 per diffamazione cyber stalking e altre varie cose e ha perso ovviamente è stato archiviato e poi ha cambiato totalmente atteggiamento con me negli anni è stato molto carino molto cordiale molto aperto durante l'evento abbiamo chiacchierato mi ha spiegato anche un po' di difficoltà che ho avuto nell'organizzazione insomma e soprattutto Giorgio questo lo voglio dire perché è interessante il primo Mic io lo contattai tu immagini sta scena io stavo facendo un'inchiesta su di lui stavo facendo un approfondimento allora lo chiamo dico senti Mic io vorrei delle tue dichiarazioni su questi dati che sono un po' strani non mi trovo sul valore lui non mi rispose mi fece scrivere da un avvocato che vabbè un personaggio ridicolo che lo seguiva un personaggio veramente triste che lo seguiva che fece solo una serie di figure di merda dimostrando che non sapeva di cosa stava parlando e lo ha messo più in difficoltà perché le risposte scomposte e ignoranti dell'avvocato gli hanno fatto fare la figura anche a lui indirettamente del Peragottaro adesso lui mi risponde direttamente mi ha contattato lui quando ha visto la cosa è stato disponibile con me mi è venuto a cercare ha cambiato competente approccio capito capito non c'è che voleva darti il refund del biglietto del biglietto sì 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 se no voleva vinto il superlotto per il corso non fare vinto no ero curioso a studio ci siamo no Gurulandia dove sta Gurulandia volevo al volo mostrare giusto cosa intendo dire se vai su qualunque puntata prendiamo quella ecco la mia la mia sta proprio sì e se vediamo da qualche parte ecco qua corso prodotti digitali lui ti traccia qui esatto questo io in realtà devo dire la verità ne ho parlato pure con i miei il mio CDA mi ha detto Giorgio ma vede bene che è sta roba qua e è agghiacciante agghiacciante le quattro fasi essenziali quando avrai bisogno di guardare questo video avrai nelle tue mani tutti gli strumenti necessari per costruirti l'unico l'unico business capace sempre uguale capito è l'unico business capace di garantirti un lavoro autonomo cioè io sto a fare io io faccio un business diverso senza nessun rischio di investimento tra l'altro sta stronzata è merda lo dice anche Tindaro che io conosco da anni pure lui senza rischio rischio zero ma quale attività in più tale è rischio zero ma non esiste un'attività in più tale rischio zero ma anche le attività illegali che ti fanno fare tanti soldi hanno un rischio elevatissimo cioè anche se spacci la droga rischi pure di morì questo non è facebook in tante lingue questo non è facebook in italiano in inglese in giapponese non promette nessun tipo di fare il solito disclaimer c'è alcuni di frutta l'esperienza non fatelo non fatelo ragazzi mi spiace non fatelo allora a me l'intervento di Marco mi è anche piaciuto molto lo scritto è stato un bel intervento molto concreto da Ati da Ashmult vedi la cosa sai qual è il paradosso Giorgio che è stato molto più concreto trasparente e utile l'intervento sul podcast che poi quando io ho detto ok sì ma che prodotti digitale hai venduto cioè il track record dov'è come si chiama l'azienda si capisce il cazzo invece Grulandia top addirittura ci ha detto le strategie che ha utilizzato molto interessante per arrivare a intervistare Briatore cioè ha fatto un crisi storie di alto livello sicuramente cioè qui infatti è rimasto abbastanza impressionato dal fatto dalle persone che ha intervistato nel senso che chiunque intervista cioè alla fine poi ha intervistato chiunque Sgarbi sono personaggi che stimo particolarmente Flavio Bratore Briatore Simona Ventura ok Simona Ventura cioè non penso sia facile accedere a Cruciani no 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 ma addirittura lui ha detto che poi a un certo punto lui aveva le proposte cioè lo chiamavano e dicevano guarda c'ho Cristian De Sica ti interessa guarda c'ho che pequeño ti interessa cioè ma il concetto qual è che la gente vede che di là c'è questa altra gente interessante e quindi vanno lì a promuoversi però il prezzo da pagare è poi che qualche ragazzino viene fottuto da un sito che è una facebook lui ha raccontato di aver pagato 12 mila euro per parlare 30 minuti con Flavio Bratore sul suo yacht io ci ho fatto un investimento e poi questo mi ha portato alle altre interviste che ah ma tu sei quello che ha intervistato Bratore ah quindi intendi l'intervista di Bratore in Gurulandia in Gurulandia è stata pagata si pagata lui ha detto gli ospiti li ha pagati io penso l'unico strozzo che non ha pagato forse anche Davide a me ha pagato la trasferta dell'albergo questo si almeno non sono andato a spese mie ma non ci sarei andato e gli ho detto un ricorso spese o anche un gettone presenza ok no il gettone non me l'ha dato io non l'ho preso questo lo dico non ho preso un euro sarebbe stato anche ragionevole è che pagare per un ad abiliatore vabbè però abiliatore abiliatore per carità tutto rispetto che ho per me stesso è chiaro che come nome tira tantissimo però 12 mila euro per 30 minuti capito non lo so perché non lo riusciamo a capire perché metto una sorta di facebook ce n'è anche Dario Moccia c'è anche Dario Moccia no dice Dario Moccia lo ha intervistato e pare che non abbia pagato neanche lui è buono lui ha pagato solo quelli vip 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 noi online diciamo ci ha pagato le spese insomma il ricorso del biglietto questo sì però ripeto il progetto è interessante ha detto i lavori ti dico anche ben concepito ben realizzato ha spiegato come faceva i shorts come li ha usati per viralizzare il canale quello che mi sarebbe interessato magari io lo chiederò e se vuole me lo dirà è quanto ha speso perché cioè quanto ha investito guarda sta roba mi è costata 50.000 euro per di non lo so quanto ha investito però sarebbe stato interessante dire ho investito 50 e mi sono rientrati 100.000 euro di vendita del corso quello non l'ha non l'ha non l'ha condiviso questo dato che secondo me era interessante chiaro ci avevo gli avevo chiesto del tipo ero riuscito a farmi dare la prima lezione e poi no Tindaro Tindaro guarda proprio oggi mi hanno mandato una storia dove tu proprio mi è rimasta impressa sta cosa se voi la possiamo condividere dove tu proprio dici rischio zero senza rischio o rischio zero senza rischio imperditoriale una cosa ci sono rimasto proprio perché ti conosco dico ma rischio zero come fai a dirlo ah ci abbiamo Tindaro c'è lo special su Tindaro che ci ha scritto 60 minuti al giorno questo è vero lui dice che parli così si un miss in un'ora al giorno il mio canale parlo perennemente qualcosa ho raccolto questo è vero questo è vero io lo seguo Tindaro da anni meno di un'ora al giorno ti serve per staccarti uno stipendio extra scordati B scordati eh in in aspetta non sto a condividere scusate scusate meno di un'ora al giorno ci serve per Instacart vabbè in Tascart scordati business scordati grossi capitali scordati giustizia e pubblicità ed oggi la mia rivoluzionaria bla 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 stipendio extra bla 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 e questo è lo stipendio extra qui non parla lui di rischio zero ci sono altre cose che io appunterei ne parla qua ne parla qua detto non ho parlato di rischio zero io mi ricordo bene che ne è rimasto impresso perché poi sai la gente sa che noi ci conosciamo da anni che lui è uno dei nostri top donator e mi dice vedi allora non lo attacchi perché lui ti dà i soldi io dico no se io fossi questo potrei chiudere Fufflix voglio dire adesso anche chi lavora senza rischiare un singolo euro guarda guarda senza rischiare un singolo euro pochi minuti non è possibile tu rischi rischi quando fai rischi sempre soldi non c'è non c'è non c'è cazzo scriscia su whatsapp scriscia su whatsapp ma guarda Giorgio sai qual è la cosa triste funzionerà però funzionerà però e che anche professionisti in gamba competenti e seri come Tinder o troppo se vogliono vendere e fare certi numeri c'è questa è la cosa triste che è quella contro la quale io combatto ma anche per Tinder lo stesso perché lui mi dirà sì ma se non comunico così non vendo ma perché ma guarda che un po' è vero perché la gente vuole essere presa per il culo cioè molti vogliono essere presi in giro ma non c'è un effetto passaparola se uno è competente e ha una presentabilità fatta bene con un sito che promette di insegnarti qualcosa non ti garantisce risultati o non mette risultati come marketing guarda allora ti dico questo Tommaso dice che ha fatto miliardi sti cazzi no poi difenderlo chi cazzo lo difende io sto dicendo ti dico una roba però io ho fatto sei anni di agenzia Giorgio arrivava il cliente A che voleva investire in e-commerce ok il commerciale che gli diceva sì Giorgio non preoccuparti con 10.000 euro in tre mesi rientri vendeva io che dicevo ce ne vogliono cinque volte tanto e li puoi perdere tutti anzi è probabile che ciò accadrà non vendeva un cazzo quindi questo è oggettivamente vero è una banalità se vuoi è una banalità quindi se tu però lo assalta un po' tutto il principio di Eurofufflix alla fine la gente è certo se di Eurofufflix ci stai attacchiamo chi fa comunicazione del genere se proprio dopo chi fa comunicazione del genere in teoria è l'unico vado per vendere è un po' triste no ma è triste è tristissimo è una distorsione di mercato grave perché contro quale va a combattere quel tipo di rischio è collegato al tempo non al denaro no non ho capito però tu dici che non rischi un singolo euro dicendo rischi zero nel senso che non rischi di finire sotto una macchina qual è il non ho capito senza rischiare un singolo euro euro che c'entra col tempo non capisco la relazione col tempo non la capisco no io attenzione questo George lo voglio dire chiaro non voglio dire che così non vendi per giustificare di dove ti comunica così no è per dire come dicevi tu che è triste che oramai ci siasse fatti a questo modo di comunicare senza il quale è un'efficacia molto ridotta che è una follia perché dovrebbe essere il contrario cioè sta merda non dovrebbe vendere questo modo di comunicare non dovrebbe vendere e dovrebbe vendere quello onesto che ti dice guarda che rischi tutta la cifra stiamo esprimendo un giudizio sui contenuti però a me quando arrivi a dover usare questi linguaggi io non ce la faccio sul contenuto è un po' più alta bravo quando tu fai gli investimenti non mi risulta che la Mercedes debba dirti ti garantiamo che arrivi in ufficio senza guidarla in tre secondi arrivi tu a luna e senza usare ti diamo noi i soldi per la Mercedes che farà mining di bitcoin col motore mentre tu non è vero non fanno così questo è il prodotto queste sono le feature e questo è quello che costa poi ci sta sì la pubblicità è pubblicità non è la history film qua io mi incazzo sempre tu lo sai tu a partire da 500 euro al mese poi avete di vita un anticipo di 20.000 euro maxi allora per me quelle pubblicità è ingannevole e lo fanno tutti però attenzione stai comprando una macchina comunque ti sto prendendo per il culo sull'entrata all'ingresso ma ti sto dicendo che la macchina è quella però questa è la linea che dicono anche loro certo ho dovuto inventarmi cazzate qua e farti vedere la mia lambo noleggiata però in realtà poi il corso di dropshipping quantum trading funziona se non lo provi non puoi dire se funziona che è un'altra grandissima cazzata per la maggior parte sì sì devi provare io dico faccio sempre la metafora della pizza ma se sono uno che fa pizze da 20 anni e vedo una pizza bruciata non è che io me la devo mangiare per dire no effettivamente ha un sapore di merda è bruciata non è che mi devo mettere a assaggiare tutte le pizze del mondo bruciate le vedo e dico guarda la riconosco la pizza bruciata in questo sono molto sono molto galvani eh esatto sono molto galvanico guarda questo questo burrone in realtà sotto c'è un telo prova a buttarti poi vediamo se non ti butti come fai a sapere se la gravità esiste beh so che la gravità esiste si chiamano euristiche talvolta anche principi di conservazione alcuni altri scam che poi magari vedremo un'altra volta faremo la sessione su quelli da trading quelle ruote dell'abbondanza i mandala queste cose qua no quelli che dicono dona uno e poi tu ci farai 40 mila perché ci doniamo a vicenda e si creano soldi da nulla il classico ponzi la ruota dell'abbondanza è un ponzi rivisitato bellissimo la ruota dell'abbondanza ma comunque tu hai una idea di quanto gente Giorgio questo è un altro tema importante quando parli quanta gente vuole e te collegato a quello che dicevo prima sai cosa mi è successo oggi mi scrivo un ragazzo e dice Germano io voglio lanciare un e-commerce ho comprato un corso da questo fuffaro ho speso 4 mila euro mi sono trovato male cosa mi consigli allora io ho detto ti consiglio innanzitutto di non buttare altri soldi perché aprire un cazzo di e-commerce è come aprire un'attività commerciale partita iva cia se non hai decine di migliaia di euro e tanto tempo non fare un cazzo non dare anche delle idee chiare vuoi aprire uno store sai lui come mi ha risposto grazie Germano grazie per i consigli senti ma mi puoi consigliare un prodotto vincente perché io non l'ho trovato cioè non ha capito un cazzo capito cioè tu dici allora cioè tu allora vuoi quello che ti vende il corso a 5 mila lo vuoi hai bisogno di quella risposta tu ti aspettavi che ti dicessi guarda non andare da loro compralo da me perché allora c'è proprio quel target di clienti che sono insalvabili capito che è gente che si vuole talvolta come li trasformo in 100 mila tu gli dai una risposta tecnica tu dici guarda non esiste cioè non ti so dare nel mercato ci vogliono parecchi anni o altre o altre imprese ma devi primo essere capace di fare qualcosa o volere imparare a fare qualcosa ma la gente vuole diventare ricca senza sapere come che non non esiste cioè se non sai come poter aver successo in una qualche attività imprenditoriale non puoi andare a cercare come spesso anche su Fufflix ragazzi cosa mi consigliate ma che cazzo vuol dire domanda da fare da farti ho un'idea voglio aumentare le scarpe con un ombrello attaccato ho studiato che le scarpe con l'ombrello funzionano una cazzata allora faccio domande del tipo ragazzi come trovo un buon rivenditore di molle per ombrelli oppure come riesco a mettere su un sito con questo con wordpress cerchi dei tool ma per l'idea è tua non puoi prendere l'idea a prestito non esiste nessun imprenditore ha fatto così nessuno di quelli che poi questi cialtroni vi raccontano nessuno ha fatto la laurea Jeff Bezos Elon Musk nessuno di questi qua è partito senza un'idea e ha chiesto su una chat telegram datemi un'idea per il business l'idea del business deve essere tua e poi puoi prendere puoi chiedere aiuto sugli strumenti per implementarla se no ragazzi fate il lavoro normale è bello se può fare soldi poi guarda come lo scrive proprio da sottoscolarizzato e tu gli hai consigliato il corso di Arnao ma quello top non quello allora o sta trollando ed è un grande che sta trollando e allora se sta trollando gli dico sei un genio bravissimo e scusami se sei serio è grave Arnao tra l'altro lo conosce anche Tinder fa self-publishing lui fa corsi sul self-publishing ma non mi sognerei mai di dire a uno comprati il corso di Arnao da 2000 ma proprio soprattutto uno che mi dice voglio guadagnare dei soldi cioè già se uno dice voglio guadagnare dei soldi gli dico beh lavorà cioè trovati un lavoro se non ce l'hai poi ragazzi se avete accusa del genere o portate dati o se no non no ma Ramego magari sta scherzando è magari una battuta io te lo dico perché la domanda di prima fai vedere magari una battuta sta scherzando è simpatico ah c'è nessuno ha detto che tu stai facendo una cosa del genere l'ho presa male io più sto su Fufflix e più pensano c'è parte della gente è gente che cerca proprio di convincersi allora io su Fufflix parlo del gruppo Facebook vedo gente che cerca disperatamente di trovare qualcuno che è meno fuffarolo per comunque affidargli ciecamente i loro soldi questo da qui cazzo ci sono anche queste ci sono anche queste persone sì beh siamo 34 mila ci sono questi ci sono i leccaguru cioè quelli là che tu che ogni sai loro ci accusano ogni tanto l'accusa è ma su Fufflix fate caccia alle streghe io li chiamo poi i cacciatori di cacciatori alle streghe cioè sono quelli che se anche tu spingitori di imbuti spingitori ma chi è che caccia i cacciatori sono quelli che vedono cacciatori di streghe anche quando non ci sono allora tipo che ne so condiviamo un po' su Mirko Scarcela eh ma adesso se non vi sta bene anche Mirko Scarcela su questo gruppo che cazzo cioè hai capito che tu dici se non critichiamo lui chi dobbiamo criticare e poi sempre la solita cosa ma voi avete sputtanato gente onesta e io dico ok Giorgio amico mio fammi un nome nel caso mi scuso personalmente rettifico e offro replica te lo giuro mai un nome quando fanno un nome è sempre un cazzaro conclamato che per loro invece è un genio quindi la percezione magari io una volta una volta me la sono chiesta stato qua il problema della percezione secondo me se stai dentro la setta di uno di questi fuffaroli no di mind settati no il primo lavoro che fanno un po' come se entri che so dentro qualche religio qualche setta pseudo religiosa la prima cosa che fanno è cercare di rimuoverti il senso critico no per cui ad un certo punto dai per scontato che quello funzioni così come se sei visto qualcosa di interviste a persone in Corea del Nord che sono convinte che tutto il mondo è cattivo no e quindi è ovvio che poi vengono a difendere il fuffarolo loro da una parte perché ci hanno speso soldi e non vogliono pensare di aver fatto la cazzata non vogliono essere messi davanti all'evidenza di aver fatto la cazzata e secondo può darsi che credono alle cazzate che dicono cioè può darsi che ad un certo punto credono alle cazzate che dicono tu hai bisogno vai in sì sì come chi compra magari una cosa inutile ma che costa tanto e funziona male e ne decanta le qualità no perché sono due euro alla capa perché ovviamente smizziamo un euro lordo a testa e dicevo sono diventano degli ambassador della merda che hanno comprato degli enthusiast della merda che abbiamo comprato quello che va al corso io ricordo è ancora più è molto più profonda anche di così perché spesso tu lo sai benissimo che molti fuffaroli quando facevo battaglie ormai 4-5 anni fa c'è chi come ricompensa nei corsi dice ti diamo accesso a contenuto extra se vai a lasciare una recensione buona su Trustpilot se vai a fare una recensione su Amazon del libro del merda che ho scritto io scritto secondo i criteri i merenderi col faccione col titolo da copi e magari ci stavo come dice ti prendi il bonus se entrate dentro Fufflix e seminate semi della cioè in teoria gli conviene io ho per certezza che almeno un paio di fuffaroli spinti dentro Fufflix hanno 3-4 tirapiedi che seminano semi buoni verso il loro fuffarolo quindi potrebbe anche essere una sorta di leccagurismo non soltanto da persone che sono state che sono state fatte l'agio del cervello ma qualcuno che lo fa per interesse che sta scillando il proprio guru perché deve diventare suo assistente o non lo so sì sì questo secondo me Ripley è anche il maglione da povero cioè questo maglione qui ha 20 anni ma io sono io sono un parco di 10 io anche un maglione questo pure io avevo 8-9 anni questo maglione io ci ho vestiti mi metto sempre vorrei vedere le sciabatte che tengono caldo che ho ma ce l'ho laggiù ma qui ho sentato pure scarpe oggi bias di conferma uno tra l'altro scrive questo puoi rispondere anche tu Giorgio no? Mirko Trade qual è il criterio perché tu ci sei tu sei un veterano di Fufflix altro hai portato tantissimi iscritti dove dare una fee come affiliato lo vedi qual è il criterio per stabilire aspetta no sopra sopra eccolo qua ok grazie 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 a Matt grazie a Matt Mirko Trade qual è il criterio per stabilire su Fufflix se non è veramente un fuffaguro o no oltre all'utente X scrive Tizio un fuffaguro allora su questo qui penso che sia io che Germano abbiamo tante opinioni a riguardo il 95% sarà sovrapponibile io ho iniziato a studiare un po' le tecniche di Fuffaguro dal mondo americano e quindi seguendo Coffi Zilla seguendo Mike Winnett seguendo all'inizio Spencer Cornelia James Gianni c'erano tanti diciamo coloro che facevano Exposing e Fuffaguro erano il loro decalogo erano più orientati ai vari Dan Lok Grant Cardone pure un po' Tony Robbins Gary V che quelli che facevano gli eventi dal vivo e ti dicevano sto per dare un sacco di valore poi dopo prima però ero povero e grazie all'impegno sono diventato molto ricco facciamo gli scorsi c'era una sorta di una dozzina di segnali sono molto cambiati nel tempo oggi c'è tutta un'altra comunicazione e il mio obiettivo che voglio fare con questo piccolo percorso è produrre un decalogo un piccolo manualetto lo stavo scrivendo in live tempo fa forse domani faccio un'altra live in cui continuo e voglio finirlo tirar fuori quei 30-40 segnali così che la gente non viene a chiedere ma secondo te Tizio Caio è un Fuffaguru perché ha problemi questo approccio primo perché io posso pure dirti sì e no questo è guru questo è no a parte chi sono io per dirlo primo preferisco darti segnali e tu ti trovi nello spettro dici ok questo qui è guru al 70% al 30% e secondo è più è più importante insegnare alla persona come pescare che dagli il pesce no? sì perché se no poi ti chiederà ogni volta dammi il pesce dammi il pesce che sarebbe e poi ne spuntano cioè ne spuntano infiniti cioè io pure oggi prendo tutti quanti mille Fuffaguru e li mettiamo il bollino fra un mese sono altri mille e se tu sei abituato a dover chiedere a qualcuno se A è Fuffaguru oppure A non lo è poi continuerei così a vita non diventi mai autonomo sì sì io concordo con te tra l'altro non ti vorrei demoralizzare Giorgio ma sono cinque anni che faccio questi decalogi che vengo intervistato ovunque che dico alla gente quali sono non ho scritto su bisogna però metterli visibili per un pdf sì no io adesso nel forum che avremo su Fufflix.it saranno tutti categorizzati perché fa schifo il gruppo facebook per come è organizzato non si capisce in cazzo in realtà manca una home page al tuo gruppo sì esatto che tu arrivi e ce l'hai ma che ti stava dicendo sorry ma ho anche su GaryVee tantissima roba guarda diventi i contenuti di Mike Winnett come gli è storto dei soldi GaryVee è un altro personaggio un altro furbone sì sì un altro furbone un altro furbone poi c'è questa categoria qua di quelli che dico sì però mischiare questo quello esatto anche io anche a me scoprire pure Tony Robbins un altro cialtrone è un posto rimasto male perché poi in realtà Tony Robbins oggi fa monnezza la fa con quell'altro come si chiama quell'altro lì che fa spesso cose con Tony Robbins vabbè magari nascevano trent'anni fa come oggettivamente un po' innovativi avevano qualche idea però nel tempo hanno visto che i soldi si fanno così eh sì esatto come dicevo è più facile fare i soldi fai pesca strascico probabilmente è più facile fare i soldi se hanno scelto quel tipo di approccio lì è il pain point no? è dire facciamo soldi nel mercato dei pain point nel mercato dei allora io sai pensavo che questo tipo di eventi di formazione ha un po' sostituito la chiesa i predicatori non è vero è forse di parlare di sette no 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 proprio la religione tu io mi ricordo mia nonna era un evangelista pregava tantissimo ok era strafedele aveva tutta la gente che aveva intorno era gente disperata era gente che aveva problemi enormi malattie gravi cioè era gente che soffriva e si attaccava a Dio alla preghiera no? alla chiesa alle messe si vedevano si riunivano e questo lo cioè tu in questi eventi trovi una marea di gente che è triste frustrata è sola viene da un divorzio da una separazione da un business fallito si vuole riscattare c'è tutta gente che bene o male è ferita no? e tu la vai a prendere e dici ecco una volta c'era il prete adesso c'è il guru ecco la soluzione stai con noi e questa gente paga mille euro per stare in compagnia prima di tutto per uscire da quello stato di sofferenza che ha poi ci sono quelli che vogliono fare i soldi ci sono i squali ci sono quelli che vogliono fregare la gente quelli che imprenditor ci sono però è difficile che trovi uno che sta proprio a posto sai in un periodo della sua vita dove è soddisfatto di quello che fa e va a fare cioè ci saranno non è che non ci sono però saranno un 5% un 10% di quelli che vanno il resto mi sembrano quelle persone per cui mia nonna pregava io dicevo io la chiamavo la community dei guai la comunità dei guai e erano persone che avevano solo sventure guai tant'è che io dicevo cavoli ma pare che no è la chiesa che ti porta i guai invece no erano le persone che i guai che si rifugiavano nella preghiera almeno lì non ricevevano grandi truffe a meno che dai tempi si la chiesa esatto dai qualche offerta ma di solito non è che ti rovini che dai 300 mila alla chiesa di solito le indulgenze sono roba vecchia non si faceva più quindi davi qualche offerta ai poveri anzi magari facevi pure qualcosa di buono quindi secondo me è meglio cioè in questo no assolutamente meglio Gesù Cristo pregare lui che pregare i soldi meglio della religione dei soldi ma lo so è tristissima squalidissima su questo qui rido poco rido poco perché la cosa brutta è che a quell'epoca lì l'epoca dei santoni o la chiesa o se no anche in America ha tutto il mondo di predicatori americani che imponevano le mani quando non c'era internet non c'erano i social arrivavi a gente che stava tutti i 40 50 60 anni oggi però arrivi a scuola a 16 anni io se mi triggero adesso non è tanto per sì c'è gente che ha fatto percorsi fallimentari sta alla canna del gas e preferisce sognare regalare soldi a uno che lo fa risorgere a 40 anni che non è vero però a me che è il sedicenne oggi mi scrivono su Instagram o tutti i giorni ragazzi dai 16 ai 19 anni mi dicono ciao Rip seguo molti tuoi video e io sogno di fare trading hai 16 anni Dio Cristo non puoi sogniare di fare trading ah ma Tindaro voleva entrare credo hai ragione Tindaro mi pare voleva entrare volesse entrare forse ce lo siamo persi ragazzi non ho potuto accedere ok ma non so se tu lo puoi fare entrare io di solito non faccio entrare è cambiato con Morini che è entrato e è rimborsato penso che non abbia molto senso penso che non abbia molto senso adesso dai si si può fare dopo magari se può organizzare una cosa però volevo continuare con con i nostri discorsi si si no ma infatti infatti scusa si hai ragione tu scusa ma poi ti ho detto su un punto importante cioè dici ti scrivono sti ragazzini e dicono misteri più voglio investire voglio fare soldi no voglio voglio fare la mia bellezza sono stufo della mia gavetta hai 16 anni che gavetta hai fatto l'immortaccio tua la vita si c'è questa impazienza cronica Giorgio che ho iniziato a lavorare a 18 anni a 19 non ce la faccio più del mio lavoro fanculo fatica fatica cazzo vabbè grande picco pallo scrive cazzate pure sul mio canale ogni tanto è un po' sparito perché la chat lo massacrava però vedo che è venuto qua come fate voi a giudicare i contenuti che non avete neppure visto lo leggo col tono sai del ditino vi basta un po' di marketing spinto per dare delle sentenze eh si e miei amici si esattamente si esprimiamo delle sentenze dei giudizi tranchant sui cialtroni che non fanno marketing spinto fanno marketing merda manipolano le persone esatto manipolano le persone promettendo cose false camminando su una linea dell'illegalità linea dell'illegalità magari dentro eh però non è che tutto ciò che è legale è etico ok quindi ma da qua mio fratello mi ha chiesto 17 anni l'ho costretto a passare a fare il bravo il prodotto poteva lanciare su amazon che cazzo devi lanciare ma vai a sai io d'altro ho fatto una citazione non tutti l'hanno colta e questo è gravissimo uno stato di di decadenza equilibrio ho detto ma uscite toccate le femmine no no che vuoi dire l'abuso adesso no è una citazione vedi neanche tu la conosco vabbè ma tu ci stai se non sei di massimo troisi che a robertino robertino sai il classico soggetto castato dalla madre diceva robertino tu te la salvai esce tu a che femmina per dire fai esperienza no non vai e fai tocca le femmine nel senso entra in contatto con loro e dietro il loro consenso toccale dopo che vi siete fidanzati ok ok però dire citare dire uscite fate esperienza conoscete il mondo questa cosa secondo me questo che è un segno intanto ok il fatto che sono spuntati molti fuffaroli e che hanno questo linguaggio e che appunto fanno leva su chi è infelice della propria vita significa che c'è molta più gente infelice della propria vita primo e e molta più questo è un feedback positivo su se stesso perché più gente verrà fottuta da gente che promette soldi facili più gente ancora più disperata ci sarà e quindi è un meccanismo completamente criminale e io non mi sarei del grado se tanto se non avessi visto tantissimi giovani andare in quella direzione bravo e quindi così e avere questa ossessione a vent'anni ma a vent'anni io non c'avevo un euro ed ero contentissimo facevo una vita sociale incredibile che rimpiava mi dispiava perché mi manca giocavo a pallone facevo sport andavo cioè io poi tra l'altro c'hai tre figli pure te c'hai no? c'ho tre figli sì maschi tra l'altro mentre stava una domanda che ti hanno fatto è cosa ne pensi dei campioni del mondo di trading ho fatto nella live l'ho fatto una settimana fa circa c'è stato una persona che fa trading è stato anche proprio qua fisicamente e ci ha spiegato un po' come funzionano e quanto è facile da roccarli quanto è facile cioè è un investimento è un business tu puoi creare sì nel senso che puoi creare tanti account li fai fare anche trade opposte esageri fai delle cose che non faresti con i soldi normali perché se ci sono mille persone che partecipano e tu arrivi trecentesimo non se ne frega niente a nessuno per cui sei tentato a andare in leva centomila su un'azione che so immagina da una parte vai in leva cento su Tesla dall'altra vai in leva cento shortando Tesla quindi uno e due andrà puttane l'altro andrà su e quindi tu non sai tu puoi creare tanti account quelli che vuoi ovviamente c'è 10k ad account per cui devi decidere quanto investire certo per cui se sei un business e dici voglio aprire 50 account al campionato del mondo investo 500 mila però ho dei ritorni d'immagine allora ci provi per cui in realtà non dimostrano niente non dimostrano niente ah bene vedi molto interessante cioè dici anche quello che dice campione mondiale ah c'è un commento qui se lo metti triggeri io mi intriggero assai provocazione a che serve studiare Gabriele Gennaro Gabriele Gennaro Gabriele Gennaro quanto tempo fa eh no poco poco devi andare sopra di una dozzina di commenti Matte ci sei Gabriele ecco provocazione leggi leggi a che serve studiare 4 ore di matematica se il bidello prende quanto l'ingegnere in Italia a parte che la cazzata è enorme mio cognato è bidello vi assicuro che non prende quanto l'ingegnere a parte il fatto che pur se guadagno uguale se tu capisci il senso degli integrali curvilinei vivi una vita più bella cioè ti metti in là ti guardi il bicchiere e dici un po' quanto è la superficie di questo bicchiere è bello è più bello è più bello avere una competenza in più profonda filosofica come la matematica è più bello e secondo che criteri dove sta scritto che bello per andare su un ingegnere io sono ingegnere mio cognato guadagna mille euro al mese mille e cento euro al mese penso che sia forse l'ingegnere al primo anno quando fa lo stage e poi tu riesci a fare il bidello tu riesci se ok fa alcuna matematica la butto e quindi faccio il bidello ti danno il bidello a te? sì subito no tra l'altro per diventare bidello è difficile lui ci è riuscito perché ha fatto per anni in militare aveva punteggi in graduatoria si è fatto anni in giro per l'Italia per fare il bidello cioè che andava a Milano vive in condivisione poi è anche un bel lavoro ma io sarei portato con i giovani però però a parte l'ingegnere guadagna molto di più e anche l'Italia poi c'è solo l'Italia c'è solo l'Italia non lo so se agli anni start up è più facile finanziare un bidello o uno che ha una laurea ha fatto un'esperienza all'estero ha fatto cioè se vedete altre mie live ho invitato qua due o tre settimane fa tale Ludovico Bessi 25 anni sta alla terza FANG su cui lavora guadagna 300 mila l'anno molto di più dei 5 mila al mese che ti fa fare quell'altro cialtrone di prima in lantà e non credo che abbia la terza media giusto? non credo che abbia la terza no no ha assolutamente una laurea ovviamente allora anche al CERN vabbè sono pieno di ragazzi under 25 che hanno già spaccato e non hanno ragionato così però secondo io ho questo problema qua quando mi rendo conto che qualcuno nel cervello ha dei modelli mentali che sono troppo distanti da dove sto io tendo a blastare e non ad aiutare ho questo limite cioè io il mio approccio infatti io non sono bravo magari come mai sei tu a cercare di aiutare tutti io dico se stai fino a 2-3 non so che unità di misura di distanza sei salvabile se sei troppo con questa mentalità non uscirei mai quindi caro Gabriele Gennaro mi spiace lui dice che è d'accordo perché tra l'altro io invece ho sempre al liceo ho avuto pessimi insegnanti e la matematica l'ho odiata ma io penso era passione di filosofia pensa ancora no la filosofia ancora di più cioè proprio non serve a un cazzo studiare la filosofia ma tu hai una idea di quanto la filosofia mi è stata utile nel mio lavoro nella capacità dialettico-argomentativa le skill che ti fai in che modo rientrano nella vita bravo io ho fatto un corso di teatro a 20 anni l'ho rifatto altre volte e magari adesso alcuni numeri che faccio e anche per la capacità teatrale Warren Buffett diceva che la skill numero uno dove devi imparare è il public speaking cioè il parlare al pubblico sembra una cazzata però sai in quanti ambiti anche per far colloqui vai a far colloqui e saper parlare al pubblico e saper gestire i tempi saper gestire la comunicazione ti aiuta anche nei colloqui sì ma tra l'altro per me è anche un po' deprimente e limitante pensare allo studio come vettore di guadagno immediato dopo cioè scusa che è bello mi sono triggerato malissimo te l'ho detto che ti triggeravi io te l'ho detto ti triggerai male scusa scusa pensavo che eri difenderi quella posizione no no invece sei solo spiegato un po' male sono brutta persona però in realtà è anche questo il fatto di dire la laurea poi se dopo non ti fa lavorare no è come se la laurea fosse cioè l'università fosse di uffici di collocamento automatici la laurea ti fa lavorare la laurea ti fa ti dovrebbe far pensare concepire pensieri di un certo tipo avere relazioni abituati a proposito di mindset abituarti a fare delle cose lo dico non avendola finita l'università però l'ho fatta per tre anni ho fatto esami quindi dico se proprio non l'ha finita almeno fai provate a farla no perché è un'esperienza di vita importantissima vi fa crescere molto vi abitua al ragionamento complesso e allo studio delle cose complesse che al liceo non fate al liceo non fate e non si può ridurre a sì però se poi io studio letteratura e poi non divento ricco allora è inutile studiare letteratura cioè è proprio un discorso di una povertà è un materialismo estremo veramente un po' limitato purtroppo c'è non è del nostro Gabriele e Alessandro scrive un docente universitario vuoi chiedere a uno studente una tesi filosofica sui fuffaguru beh ci sarebbe da scrivere ci sarebbe da scrivere in realtà vuoi fare più cose che una laurea che senza è ovvio ragazzi diciamo che tutto il trend dell'università è brutta ha delle basi motivate perché nasce dall'America in cui in America questo trend è più spinto perché i costi delle tuition i costi del fare università sono stati così alti sono cresciuti molto di più dell'inflazione la gente comincia a domandarsi ma vale la pena indebitarsi 300.000 dollari per fare Stanford che poi se non entro in Google mi sparo in testa non ripagano più il debito e lì comincia a esserci anche effettivamente il prezzo sta andando su un'altra linea rispetto al valore effettivo di quelle cose che impari imposti come l'Italia e la gente si incazza mi diceva 12 cazzate in Italia io dico l'università è gratis letteralmente non lo è li paghi 3-5-1.000 euro io pagavo 800 euro all'anno la Federico II oggettivamente sono cifre demenziali quelle là per quello che dai 5.000 euro a Luc Marani dai 5.000 a Luc Marani 1.000 euro ci fai 2-3 giornali in Italia quello che costa in termini economici a mio avviso è da fare è ovvio che il trend del buttar merda sull'università ha una qualche base perché in Italia soprattutto le professioni non è un paese che cerca talenti o gente con skill è vero l'Italia è piena di piccole e medie imprese non c'è ricerca ti fai un dottorato e poi che vai a fare ricerca per le idrauliche spurghi è complicato però non c'è solo l'Italia se ti metti in un mercato globale mentalmente mi chiedevano che facoltà ho fatto io ho fatto economia aziendale il primo anno ho dato tutti gli esami tranne uno sono uscito persino a dare matematica finanziaria che per me era una roba vedi c'era una roba che io pensavo non l'avrei mai data invece l'ho data e poi ho fatto scienze politiche due anni tutte tutte le utilissime entrambe anche se non le ho finite ma grazie Giorgio ma sì il punto il punto è che in Italia tu hai detto un altro tema importante no? hai detto un altro tema importante Giorgio non c'è ricerca molte volte di laureati cioè è vero è vero quindi tu magari non c'è questa ricerca di alta specialità è vero l'ho vissuto lavorando con le PMI no? e poi c'è anche un po' questo ovunque cioè che puoi lavorare all'Inter FC al Milan alla L'Oreal devi aver studiato alla Bocconi alla Lewis cioè è un ambiente di lavoro è un ambiente molto elitario un po' classista questo è vero le industrie di successo italiane quelle più famose all'estero la moda e il cibo non è che sono aziende che si prestano dirò cazzate ad accogliere quello che il resto del mondo cerca come STEM come appunto scienzi scienziati gente nel campo tecnologico non c'è molta domanda però mi dico anche questo è vero quello che dice Gigi ma allora perché non cioè i fuffaroli che ti dicono ah l'università da sfigati e chi si laurea proprio a lavorare come dipendente di quello che non si è laureato che ha fatto il business guarda che tutti i business quelli più figli che tu usi in realtà è fatta da gente che se non si è laureata comunque è partita da un altro background non è che zuccheri ok non si è laureato ma stava lì non si è laureato perché a un certo punto non era senso che perdesse tempo a finire laurearsi ma lanciasse il business ma soprattutto perché non pensare che qualcuno possa laurearsi e poi creare una cazzo di start up innovativa in Italia quello sarebbe il vero il vero successo no? il vero la vera ruota che fa muovere tutto quanto quindi no laurearti vai sicuramente a finire a fare a guadagnare un bidello invece se muovere la laurea e vai a fare con me quello che il venditore telefonico hai più successo possiamo dire Gigi dice questo è importante l'ingegnere non ha accesso a stipendi medio alti c'è appiattimento di RAL sì sì sicuramente sicuramente ma anche sti cazzi c'è il senso che c'è anche il resto del mondo cioè il problema è endemico in tutta Europa lui dice gli ingegneri in Europa fanno due volte in Germania prendono due volte sì ma in Germania ti costa anche due volte vivere in molti quindi dipende cioè ci vanno in Australia l'Italia ha il peggior rapporto l'Italia è la peggior città come informatici costa quanto costa quanto Zurigo Milano però gli stai ti pagano 21 mila di RAL per cui è un po' complicato sì sì vogliamo riprendere e fare un altro po' di un altro paio di risultati bravo sei un altro po' di reaction in chiusura dai dai reaction in chiusura e poi dopo ce ne andiamo allora io direi o scegli tu o facciamo scegliere al pubblico dai ma ma quanti ne abbiamo c'è tantissima roba tantissima tantissima qualcuno che ti ispira particolare ma guarda c'è c'è come si chiama ho visto Gabriele Nicola Scataldi Nicola Scataldi mi fa morire Nicola Scataldi è quello di 5k da Balmain ok Nicola Scataldi eccolo qua aspetta che non sto condividendo eppure una persona normale deve lavorare anche più di 10 anni solo per poterli guadagnare mentre io ho 24 anni e questi soldi li faccio in meno di un mese ma attenzione non sono laureato alla non sono figlio di papà che ha ereditato una fortuna dalla famiglia anzi tutt'altro e non sono neanche uno di quei nerd che passa le giornate a lanciare campagne di marketing online i nerd scrivono codice i nerd passano il tempo a lanciare campagne di marketing online non so i nerd ma anche no non c'entra un cazzo commerce o a fare trading davanti ai grafici semplicemente ho conosciuto una persona che mi ha svelato un segreto conosciuto una persona Giorgio tutte loro le conoscono queste persone che gli svela il segreto e lui è il tuo miliardario e risvela il segreto ragazzi è fantastico stesso segreto utilizzato da aziende enormi come Amazon Airbnb Peripal Uber e molte altre per fatturare i miliardi nel digital molti non lo sanno ok quindi il segreto di Amazon il segreto di queste quattro aziendine nel digital esiste un fiume immenso di denaro in cui ho semplicemente imparato a infilare la cannuccia per farne fluire un po' nella mia direzione e sai cosa è ancora più bello che sono partito senza budget senza un scheme senza vendere senza capacità senza capacità senza avere particolari competenze senza soldi senza capacità senza sito senza tele senza internet senza neuroni attivi senza un cazzo meno cose hai meglio è vai vai senza mani e senza neanche saper fare marketing online e senza metterci la faccia questo modello non necessita di alcun budget iniziale puoi partire con zero cassa e arrivare a 10k al mese in meno di 60 giorni lavorando meno di due ore la settimana ragazzi ma la gente che va a fare altri lavori oggi abbiamo perso due ore della nostra vita quanto guadagnavamo quanto guadagnavamo nessuno le parla là fuori questo è il video nessuno le parla fuori ne parlano tutti i fuffari tutti tutti ci sono queste puttanate e io ho dovuto scoprirlo dopo aver provato a guadagnare online per 5 anni senza ottenere anche lui era povero anche lui è fallito anche lui è sbagliato fino a tre mesi fa stavo per morire non avevo anche i soldi per un grissino ma l'ho investito nel business online e ho fatto i miliardi adesso sono la Lamborghini a parte coglione se tre anni fa non stai eri povero come la merda e ora hai fatto qualche soldo non te compra la Lamborghini aspetta prima cosa aspetta prima cosa aspetta un po' quindi se vuoi imparare a fare lo stesso e bruciare le tappe per arrivare velocemente a fare una vita come questa che io ho sognato per anni allora clicca subito il link qui in basso e credi tra l'altro porca puttana stai in piscina ti stai rilassando col telefono in mano come un coglione ma posta fatevi un video di voi senza che fate un cazzo così senza telefono senza pc senza una sega cioè va bene 27 euro 27 euro che ne risparmi 2,7 guarda quanti 7 27 quanti 7 2,70 il totale quindi faceva 297 7 solo 27 ai prossimi 7 minuti no a due minuti quando eri un poca giustamente eri andato anche tu con 7 il bottone che si muove il bottone che si muove quello non manca mai si perché gli esperti in neuromarketing dicono che se il bottone si muove è più visibile allora vediamo intanto se madonna questa è la landing più lunga d'Europa la landing page questa penso sia fatta questa penso sia fatta per provocare cecità nel giro cioè questo se la guardi per due ore diventi cieco sembra peggio da una campagna di successo di kickstarter madonna ma che è stato ragazzi è fantastica se non fossi sfuggito immediatamente da quella stavo a pc 14 ore al giorno compresi un quarto d'ora fa cioè l'altro ieri stavo così quanto tempo fa era? aspetta eh ma poi non è vero perché lui è da anni che dice che gli anni prima faceva cacare quindi ero convinto feci la società col padre invece di prestare 10.000 ero povero come la merda avevo i debiti ma poi ma poi ed è stata proprio una singola conoscenza una singola conoscenza certo e poi ho scoperto il mio padre è Elon Musk non sono mai due o tre sempre singola non è mai due o tre non è sempre una sola perché tre è troppo tre diventa complicato da processare tre conoscenze 27 euro barbone che non sei altro ah c'è 4,97 consuenza è arrivata one to one con i nostri coach più esperti allora vediamo un po' ma finirà questa cacca troia aspetta oh oh questa è la più grande allora disclaim polire di rimborso questo sito non fa parte di Facebook ok c'è sempre e qui Facebook è un marchio di Facebook Facebook è un marchio di Facebook giustamente YouTube è un marchio di Google Google invece di Google Twitter è un marchio di Twitter a parte che tipo già già tutte e tre sbagliate esatto Facebook è un marchio di Meta YouTube e Google sono un marchio di Alphabet e Twitter è un marchio di X quindi le tutte già sbagliate quindi a sto punto farle meglio queste cose e poi tutti non sono tipici di ciò che accade fantastica ma perché la polizza di rimborso è scritta e non se l'è è una fuffata è una fuffata pure quella ovviamente mamma mia ragazzi solo il 30 febbraio qualcuno conosce questo qua sì come Niccadaldi è un VIP su Fufflix ne abbiamo parlato tantissimi modello segreto utilizzato da aziende digitali miliardarie per creare un business spendendo zero impegnandoci solo capito cioè ti dà il metodo di Amazon di Paypal questo fa cialtrombola se facciamo la cialtrombola questo ci va bingo questo fa bingo subito questo ci va senza un sito web senza occhi tipo Shudel dell'airone d'acqua di Nanto senza soldi guarda mamma senza soldi senza macchina l'offerta scade tra due giorni ragazzi chi è che lo refresh domani o dopodomani e scopi ma guarda che il timer è scaduto in realtà vedi ore zero è già scaduto il timer allo scadere del timer il timer è scaduto già ok quindi non posso comprare non posso vediamo no poi comunque lo farei con qualcosa di falso poi mi fa autocomplete ma proviamo Ahmed Ahmed mi spiace ma non daremo i mail lo facciamo subito con temp mail temp mail mi piacciono queste cose qua io sono abbastanza fetish del dar fastidio ora gli blocco 3-4 consulenze tra l'altro subito abbiamo una bella mail temporanea spero che vi fa scattare il click come si chiama il mailchimp al prossimo step e pagate di più di mailchimp spero è il mio sogno come on eccola qua copia fai così dai dacci dentro vai lo step 2 oh ripiro dell'ordine voglio un numero di telefono al secondo step un pezzo alla volta vedi Germano ah lo so condividendo scusate un pezzo alla volta ora voglio un numero di telefono perché un pezzo ormai l'ha già messa la mail che fai non mi dai il numero guarda guarda ci sono due cose uguali DSRPP DSR27 non si capisce che è si capisce manco che cazzo cambia metti pp c'è più roba c'è più roba pp c'è più roba c'è anche i pv6 non so oppure si aggiunge alti 37 ma adesso la somma non fa più un fisch più col 7 vorranno inventarsi uno sconto si questo è l'upsell interno però c'è un numero di telefono Gio ti inventavo un numero speravo di vedere un video in cui vi diceva complimenti adesso sei al secondo step complimenti per aver lasciato la tua mail ci ha fottuto ci ha fottuto ah però attenzione attenzione ho ricevuto la mail eccolo qua il tuo corso eccolo qua sei stato no maledetto esatto riprollato qualcuno qui in chat che ha visto ha mandato una mail a questa qui il riproll così per per la cronaca per chi non conosce il riproll era il il ricroll una volta fatto con questa roba qua cioè io mettevo dei link e ragazzi ho appena fatto ho scoperto un nuovo segreto e mettevo un link e finiva tipo il ricroll quindi mi hanno riprollato ma comunque secondo me se metti un numero fake cazzo ti dovrebbe andare lo stesso eh però poi vuole la visa vuole la mastercard vuole la roba ah dopo te lo fa già comprare là te lo fa già con giusto eh sì stavo messendo nel carrello vedi perciò uno dovrebbe fare tipo un fondo cassa dove si compra tutte queste puttanate da 27 euro se le guarda e poi le recensisce secondo me diventa fighissime guarda qua 2017 18 anni l'ho proposto a uno sponsor però mi lo dirò comunque da soldi a questi qua però l'ho proposto a uno sponsor e probabilmente accetterà però non so se voglio arrivare così in fondo nessuno ne parla così nella tana del banconino nessuno ne parla no ma sotto c'è lui a 18 anni che era povero ma porca puttana di quella ma a 18 anni cosa cazzo devi fare ma che è ma c'è l'immagine un po' la foto il test era a test l'audio un po' un po' drammatico no ma che cringiata che cringiata galattica 18 anni che era povero di vedere Gigi Buffon ah sì è un po' lunga è complicata nel senso che su Buffon è lunga e complicata non so che c'erebbe da vedere tutta l'intervista con Casario ma un po' alle 11 e 35 forse non siamo non è il po' possiamo permettere un ultimo un ultimo dai lo voglio allora vediamo vediamo qualcuno del trading dai un passive forex eh bravo qualcuno del tuo dai qualcuno del tuo dai vediamo un po' al volo ah money surfers money surfers sono molto money surfers dai questi qua roba tua dai l'hanno chiesto in tantissimi l'hanno chiesto pure a mesi sì hai mai pensato di raddoppiare il tuo capitale in soli due anni con il impegno che appena dura la settimana costantemente chi è che non ci pensa chi è che non ci pensa allora money surfer chi siamo corsi investo in club ma dove partiamo vediamo un po' inizia il test gratuito per scoprire come aumentare performance finanziare però devo dire qui tutta alta la professionalità il look and feel è fatto bene no? finora sembra qualcosa psicologia del denaro crescita personale andiamo a vedere una dividend ethical spread boosting investimenti in azioni in azioni no? ok andiamo un po' dividend pro boost acquistalo ora cosa ottieni ma la comunicazione non è malissimo fino adesso no no tra le migliori che abbiamo visto si si molto professionale molto clean molto cosa ottieni un giusto mix di strumenti finanziari riuscire a molti di dividendi anche di 3-4 volte ma cazzata che vuol dire moltiplicare i dividendi 3-4 volte questo è più pericoloso secondo me rispetto a chi che c'è molta professionalità nel se fatto bene nel sito più anche loro però hanno i commenti di facebook vedi Barbara Castelli più 35% si poi appunto i nomi e cognomi delle persone se questi qui domani ci ripensano non lo so sì io pure più 23% più 20% in 3 giorni che è questa roba 20% in 3 giorni dove stiamo 35% vorrei fare un po' di conti report gratuiti per introdurre il time to Elon Musk l'Elon maschizzatore un tool che è uno spreadsheet che ho fatto io quanto tempo ci vuole per diventare da barbone di Dio a Elon Musk questi 20% in 3 giorni possiamo dire che stiamo sul 6% al giorno quindi col 6% al giorno se parti con 1000 euro diventi Elon Musk verso novembre 2024 non è male non è male ci metti quasi un anno a diventare Elon Musk un po' lungo come periodo è un po' lungo come periodo c'è chi offre di meglio c'è chi offre di meglio torniamo un po' ai nostri corsi Money Wellness Kit benessere economico self mastery ethical boost dividend cosa mi interessa dividend pro boost si è sempre il stesso Rockefeller puttanate portafogli chi siamo vorrei vedere qualche cosa un po' più interessante non ancora gli eventi è stato un mix secondo me veramente ben congegnato molto bravo si sembra che mescolano aspetti finanziari motivazionali yoga loro fanno anche yoga meditazione nel senso che secondo me vedi ci sono pure i buddhisti vabbè qui voglio dire dei gusti intrasomatiche bisognerebbe andare un po' più a fondo non è l'ora da ma io è circolare Carlo dice sono stato un ex collaboratore Carlo Nero ok però pure se roba avrei molto da dire si è però dici dimostri incredibile oltre a non pagare i collaboratori accuse gravi io ho letto a cliccare su acquista ora e ritorna in cima alla pagina e come non si può comprare forse sto corso io ci clicco e torna qua Budsway ti ha dedicato un video a te si ho visto qualcosa ma vabbè lì parliamo sfondiamo porcia nel senso che spariamo su croci rossi ora questo è più difficile giochiamo Budsway in tre secondi si fa in tre secondi Budsway eccolo qua è il video tuo dovremmo vederci il video mio un po' mi spiace dagli visibilità ha fatto un video su di me ma in realtà non parla di me ma poi ci ha parli di quanto lui è bravo del trading e di queste cose qua è questo qua il video l'ho visto ma non merita non merita ho anche segnato un po' di post su Fuflix di questo qua questo è per capirci per capirci entra nel circolo esclusivo dove 100 trading hanno realizzato fino a 4717 dollari in 30 giorni partendo da zero stiamo a sto livello c'è mai qualcuno che parte da 10 da 100 da 3 no sempre da zero no da zero tu 3 dico zero tu prova Germano apri un conto su un broker da zero ho fatto da zero forse intendeva i conti quelli demo non lo so il maggio ho fatto dal consulente fine con Germano eh non lo so parto da zero no zero posso messi in zero che posso fare questo è parli di nulla è il nulla è il nulla galattico ci stanno altri è questo qui pappa pronta trading automatico senza studiare come scrivere codice ma dovrebbe essere l'incentivo dovrebbe essere al contrario dovrebbe essere adesso si spiega come scrivere codice per fare trading eventualmente che tu poi magari intanto impari a scrivere codice una cosa che puoi usare anche al di fuori e magari poi non lo so cominci a entrare in questo mondo qua e fra due anni offri qualche soldo oppure entri a lavorare in JP Morgan che cazzo ci faccio con una roba senza fare niente metto soldi e guadagno non esiste senza spendere che si muovono offerta solo per chi si regista per l'evento di prenotazione 56% in 12 mesi e cinquant mamma mia 56% quando arriva il pop up torna sulla pagina fantastico reputo che sia agghiacciante 56% in due mesi stiamo sul 21-22% al mese e quindi anche qua se andiamo 21% 22% al mese vediamo un po' quanto ci mettiamo mi sembra che parti da 5.000 quindi lui ti promette di diventare Elon Musk in 7 anni e mezzo 7 anni e mezzo in teoria lui è onesto cioè se oggi parti a investire con lui diventi Elon Musk verso maggio 2031 quindi non so bene che impegni tu che impegni a avere è un po' tanto aspettare fino al 2031 è un po' tanto per diventare Elon Musk 7 anni sai posso succedere tante cose piacerebbe se potessi un po' tipo 6 mesi vediamo un po' se magari quasi così è 100% in 3 mesi 33% al mese non è 33% al mese diciamo è vero hai fatto l'errore hai fatto l'errore classico due elevato dei consulenti di anima però io non ti vendo le consulenze di te fai il 26% al mese e comunque è più alto di quell'altro quindi se permetti se permetti a 26% al mese basta cambiare inezia verso aprile 2030 diventi Elon Musk già meglio ho tagliato un annetto già meglio già meglio 6 anni e qualcosa già meglio e quindi di che vogliamo parlare di che vogliamo parlare tra l'altro io odio il trading cioè una roba proprio io mi romperei i coglioni l'unica cosa che faccio è l'unica cosa che ho fatto nella mia vita di un di roba di trading che ho fatto è stata con le crypto nel periodo bull run quando praticamente tutti compravano nel 2020 tra la fine del 2020 e il 2021 quando tutti compravano ho fatto due spicci e poi ho lasciato il resto su bitcoin considera che io ho occupato bitcoin a 50.000 euro per farti capire ok beh poca roba 2.000 euro di bitcoin mi sono rovinato però per farti capire quanto io ho dimestichezza con il trading dei trading e tutte queste robe qua facciamo se mi consenti una piccola veloce selezione in Cina perché non 33 facciamo finta che sia 33 al mese lui dice 100% in tre mesi se io faccio 1.000 per 2 100% dopo tre mesi avrei 2.000 ci siamo 100% in tre mesi se facessi il 33% al mese proviamo a vedere per 1.33 una volta poi il secondo mese riparti da questa cifra quindi in teoria ancora per 1.33 terzo mese per 1.33 e sei arrivato oltre il 2.000 sei al 2.300 di poco in più quindi devi cercare quel numero x tale che x al cubo fa 2 che è 1 più 100% 2 e quindi questo qui diventa radice cubica di 2 quindi diventa sì è ovvio è ovvio chiarissimo te lo stavo per dire io se questo qui è il fattore moltiplicativo facciamo la prova ripartiamo da 1.000 moltipliciamolo per questo numero qua il primo mese il secondo mese ancora per questo numero qua il terzo mese per questo numero qua e arrivi a 2.000 1.999 va beh perché ovviamente si ferma giustamente spiega perché invece non è il 33 e il 26 ecco chiedevano in chat perché non hai fatto 100 il mese diventa 100 in tre mesi per quale motivo perché prova fatti i conti parti con 100 euro e datti 26 il primo mese poi hai 126 e datti il 26% di quella cifra lì perché ricordo che ogni volta il calcolo mensile è sulla fine del mese precedente non è sull'inizio sul primo mese tu vieni a fare quando oggi dicono google ha fatto il più 2% è rispetto all'ipo no è rispetto alla chiusura di ieri 2% su ieri non 2% quindi se fai il 26% ogni giorno lo fai sulla chiusura del giorno prima non su quello che c'era in un giorno arbitrario non è vero che bitcoin non c'entra con il trading non è affatto vero il bitcoin puoi fare trading di bitcoin dipende da come lo vedi poi Giorgio sulle cripto tu trovi c'è gente che dice tutto il contrario di tutto sono tutti esperti no non è un asset di investimento non è una moneta non è trading se tu tradi puoi tradare anche bitcoin puoi fare trading anche con i bitcoin non è che li puoi mettere in stake trading significa comprare una cosa e cercare di venderla a un prezzo più alto si può fare anche trading con i cellulari lo ricompro lo rivendo con i rolex anche quelle trading però quando si parla di trading in generale si parla su mercati che sono digitali si scrivono no rip il profitto si ritira perché è giusto che i nostri clienti vedano soldi a citazione per dire che l'interesse composto non c'è l'interesse composto non c'è quella volta lì sono troppo sono troppo divertito perché dice no perché noi in realtà non è composto perché consigliamo di prelevare ma non vuol dire niente come se ti dico due mele più due mele fa tre perché una consigliamo di mangiartela ma quello si fa no due mele due fa sempre quattro però 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 lì ti hanno un po' criticato perché dicevano in realtà tu lì hai voluto fare il professore sull'interesse composto ma si non era il core ci sta no perché se tu fai trading voglio dire no la critica lì era quella lì non è non è quello cioè ci sta il fatto che io non considero l'interesse composto per l'approccio che hanno loro ma perché le cose che scammano da qui a tre mesi devi pigliare subito come i schemi quelli che danno il 20% al giorno tu metti dopo due giorni prova a scappare hai fatto 20% ma in realtà non può fare un investimento anche tra trader sì che scrivono che ho 20 bitcoin e fuffa coin io sono colpevole perché investo e ho investito in fuffa coin quello lì è un argomento totalmente polarizzante che ogni volta mi lascia preso la gente brava io non ne parlo più perché mi sono troppo rotto i coglioni perché poi ci sono quelli che dicono che esiste solo il bitcoin non c'è altro andiamo in dettaglio loro intendono che il loro bot tratta sempre come se avesse stato ci vendendo i profitti e perché? e perché? cioè se io ho 100k e faccio il 10% e poi ho 110k sul conto non li usa gli altri 10? cioè o non scala tutto quanto il 10% e poi anche se loro facessero ogni volta prelevassero se tu ti agganci e fai copy trading nessuno ti vieta di continuare a metterci più soldi in quel conto e fare copy trading con un conto più ricco quindi se io faccio il 10% il primo mese e dai 500 che ho messo a 550 e non prelevo e dico sono ancora agganciato a quel conto se lui fa il 10% e lui ha prelevato chi se ne frega io su 550 farò 55 cioè io vado per forza esponenziale non c'è non c'è loro invece prelevano tutti i mesi loro prelevassero io mi aggancio al loro conto e vado in proporzione a quello che fanno loro mese per mese il loro bot fa intenzionalmente meno soldi tu non capisci secondo me quella percentuale l'hanno calcolata sommando algebricamente io voglio fargli il test del tipo meno 30% più 40 che in realtà è negativo perché se da 100 fai meno 30 vai a 70 se fai più 40 28 arrivi a 98 stai sotto e dopo fai meno 30 più 40 vai più 10 è vero volevo incastrarli così ho perso l'occasione quello è un altro test comunque ma quello è nulla perché Buzz Way ti fa vedere che su tutte le strategie possibili sono le migliori del mondo ma la Buzz Selection è proprio quella stretta avrai sempre tutte le strategie di cui hai bisogno capito? potrai fare trading perché in realtà tu fai copy trading hai il pilota automatico quindi non c'è neanche queste strategie non c'è un cazzo quindi a che cazzo se ne frega se io faccio il copy trading giustamente non me ne frega manco d'averle ah il concierge ecco il concierge ci pensa il concierge mi hanno detto che potrai tenere l'esenziale quindi ci penserà il concierge questo ragazzi è un tassi in aro che si è messo a vendere sta roba e ho avuto anche soffiate in privato di gente che potrebbe raccontarmi altre storie però è un po' complicato comunque è tutta gente che si arrabbatta questa amico mia sì 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 tra l'altro non lo so si possono vedere cose tipo scam watcher review su Buzzway ci stanno diciamo un po' di cose brutte un po' di red ci sono parecchie red flag parecchie red flag parecchie we'll aggressive the urge clients to make additional trace quattro lì in case communication e su anima hai trovato qualcosa no? sono talmente piccoli che non su anima in realtà no ho soltanto confermato una cosa volevo in realtà io avevo tra gli obiettivi anche il entriamo ho fatto ho installato vanta ho fatto roba non ho ancora fatto la messe soldi veri ma ho ho anche registrato un video mentre faccio alcune cose ma non sono nel fondo ma la cosa divertente è che ti ricordi questo 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 momento volevo guadagnare solo dal profitto non guadagnate una fee per ogni tu gli avevi chiesto ma quindi voi non fate affiliation no non c'è una fee esatto esatto è un'applicazione assolutamente non è un'applicazione aspetta andiamo poi avanti possibili affiliati ci sono online ci sono grossi però non è il caso di Sasha tutto quali discorso quindi Sasha non prende CPL non prende costo di nulla non guadagna commissione sui clienti non guadagna nulla guadagna esclusivamente dalla percentuale di proprietà chiaro andare sui pdf che si trovano dentro al dentro al al telegram ok e cosa scopriamo scopriamo come registrarsi al vantage market bla 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 link vantage ok coge il link e mettiamoci non so apriamo non mi dire che ho link di affiliazione no però questo io lo sapevo e lui sai cosa ti dirà che guadagna il ragazzino che guadagna l'altro ragazzino serve per per tracciare quelli che sono arrivati dai quali noi prendiamo i profitti ma è una puttarata no 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 perché copy trading io mi scrivo e poi ti dicono guarda che devi installare vsocial e poi cercare quanto ah giusto c'è quell'altra cosa sì c'è quell'altra aspetta 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 faccio vedere sul secondo documento loro ti dicono come usare va scarica un'altra app vsocial bla 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 e qua dentro dovrai scopri cercare quanto un trade AI premere invia e fai copia questa è la loro didattica questa è la formazione la formazione esatto fai copia e poi se vuoi puoi scegliere la trade sites e lascia ma te potresti dirmi anche se vuoi puoi andare anche in leva più esagerata lascia uno non fanno clicca quei tre bottoni che ci servono i sordi quindi no va bene questo bellissimo affid tu che sei esperto anche tu di affiliate marketing che significa che qualcuno prende qualche soldo quando uno registra il vantaggio oppure no infatti la domanda da fare è scusami ma perché stai tracciando i link se tu non prendi un euro da vantaggio che cazzo te frega di quello dire no ma perché questo è cpa questo è costo lo so benissimo questo è cpa si ma lui vedrai che si metterà una cazzata ti dirà no ma perché da vantaggio vogliono valutare la so io la cazzata la so io la cazzata io ho riassato tante volte questo passaggio dicono non li prende Sascha li prenderà uno di questi due ragazzini non li prende Sascha magari Sascha manco lo sa esatto magari Sascha dirà io non lo so lo prendono loro tutto il loro linguaggio è stato no 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 Sascha anima non prende l'affiliato li prende il prestanome li prendono loro due questi soldi lui perché lui secondo me pure ne hanno parlato ho detto ragazzi non mi posso bruciare l'immagine mi raccomando ma io guarda io gli voglio anche credere però io ho già detto Sascha non sei proprio furbo perché cazzo stai usando il tuo nome la tua community i tuoi follower per promuovere sto broker illegale in Italia e non ti minima i soldi cioè che cazzo lo fai a fare cioè per che senso ha poi fa le storie dicendo anche oggi abbiamo fatto l'1% sul conto dei 600 euro ah sì lo facessi vedere sì sì anche oggi questo oggi abbiamo chiuso 1,5% tipo 8 euro quello è il loro capitale a rischio loro rischiano 100 euro se va su e la gente si è agganciata con centinaia di migliaia di euro tante persone 35% su tutto se va giù hanno perso hanno 600 euro a rischio ecco questo è importante spiegarlo Giorgio anche a chi non ne sa una sega cioè soprattutto a chi non ne sa una sega cioè come funziona questo schema dei 600 euro che ripara l'oro dal rischio in realtà ribalta il rischio sulla moltitudine di persone che investe io ho giocato un po' col conto demo di vantage potrei anche condividere qualcosa forse qualche dato dovete mettere qualche dato per il New York Custom per i soldati privati è un po' complicato però è un broker CFD che va in leva che vanno da 100 a 500 da 100 100 500 compri un solo su cose che in teoria hanno pure bassa volatilità tipo forex per cui vai in leva 100 e tipo un conto demo mi sono bruciato i soldi in 3 secondi ho comprato euro franco pam 3 secondi ho perso 1000 euro e poi ogni trade che fai ha uno spread altissimo tu non stai comprando al mercato tu stai dicendo voglio comprare euro su dollaro ma c'è uno spread molto ampio e il broker decide se dartelo o non dartelo è lui che apre e chiude le trade con te non stai mai andando a fare trading con nessuno però tu appena compri qualcosa sei già in perdita perché se vuoi rivenderla devi rivenderla al loro ask cioè per dirti il prezzo euro-dollaro fai che è uno a uno tu dici ok vuoi comprare dollari te li vendo a 1.1 tu al momento in cui li compri già vedi che stai a meno tanti soldi perché se li vuoi rivendere te li ricomprano a 0.9 quindi te li compri a meno di quanto te li sei comprati tu per uscire dalla buca che ti sei scavato appena fai una operazione e arrivare dall'altra parte dello spread devi già avere molta fortuna è quello lì che fa vincere i broker CFD sempre poi in leve così alte è un attimo ma tra l'altro il ragazzo in basso diceva proprio questo guarda lui lo diceva allora aspetta che te lo trovo te lo trovo perché ce l'ho qua te lo trovo perché è allucinante aspetta questo qua sotto te lo giro no no ti giro il messaggio allora quando rispondeva a me tutto seccato te lo mando su whatsapp si mandalo su whatsapp no perché questo è allucinante è proprio quello che hai spiegato come sempre poi è la proiezione un po' come faceva Matteo Sabba accuso gli altri di cose che faccio io fondamentalmente leggi un po' ok due cose mi hai mandato poi che io fossi te chiarirei su quella lista che è da verificare perché la gente è andata in panico ce ne sono cento nomi là c'è anche Agostino Ricosta sulla tua lista dei fucca sono nomi in realtà ci sono anche delle cose interessanti non mi è soltanto voglio un attimo fare sì poi c'è il tag scam lì no il tag scam è il nome della puntata cioè non è ci sono anche cose interessanti ci sta ad esempio un post di Marco Misani che al sole su LinkedIn mica significa che lui è scam significa che ha fatto un bel post e volevo anche leggerlo diciamo che fa parte dei contenuti che ti reputo interessanti per lo scam baiting non è che non significa che tutti quelli che stanno qua è scam ci sono anche cose in teoria che sono interessanti per altri motivi fai questa cosa leggi il messaggio allora sì aspetta mi sono un po' incartato mi hai mandato su Whatsapp che ho aperto sì leggo il messaggio intendi dire però leggo allora ma prima di parlare dovreste conoscere le differenze tra i vari broker soprattutto i metodi con cui quest'ultimo danno i propri clienti una regolamentazione Consob che sembra quella che vi preme di più l'acquisiscono solo piattaforme market maker ovvero che fillano gli ordini dei clienti del mercato Bbook questo significa che quando un cliente apre un ordine buy il broker aprirà un ordine sell contro di lui ovviamente portandolo a perdere portandolo a perdere però in teoria tu parti con uno svantaggio è come dire vuoi giocare contro di me ti guardo in faccia e dico ok tu parti 10 metri più indietro quindi magari può darci che vinci ma 9 su 10 per inoltre le piattaforme utilizzano io che utilizziamo io e chi mi serve sono tutte regolamentate puoi controllare di lasciare i link delle regolamentazioni sono state in Australia cioè non dalla Consob fine tutto qua no però per dirti quello che diceva lui prima no che il fatto di fillano gli ordini che gli altri sono cattivi loro non lo fanno tra l'altro loro sono market maker cioè lavora la loro piattaforma di CFD ha quelle stesse logiche lì cioè ha quel svantaggio ha quelle logiche lì parti svantaggio come tu dici c'è un conflitto di interesse intrinseco perché loro guadagnano se tu chiudi la posizione in perdita tant'è che ti danno un forte una bomba di soldi come affiliation perché perché molta gente perde ci sono delle statistiche su quanta gente perde i soldi con queste piattaforme io potrei spiegare esatto se c'è un broker che ti regala 200 euro per ogni 100 euro investito è matematico non sono bene i fattori cioè è matematico bra lo fanno perché statisticamente la maggioranza di chi sta là perde se no non lo farebbero capito cioè non starebbero in piedi e lo fanno perché probabilmente non coprono gli ordini a mercato neanche cioè non lo devono fare giocano con i soldi dei clienti loro fanno allora quello che io il mio modello è che è che loro facendo market maker il loro ruolo è trovare chi chiude altre trade quindi quando tu vai a fare aprire un ordine da loro ti propongono uno spread che loro poi dopo vanno a aggiarsi da un'altra parte nel senso che loro stanno sono quelli che comprano order flow da qualche broker secondario quindi sanno che c'è tizio che vuole comprare a 100 tu vorresti comprare te lo vendi a 101 a te e io ho preso uno e mezzo quindi loro non rischiano quasi mai quando si dice il broker CFD in realtà gioca contro di te in realtà neanche non ha bisogno dici tu in molti casi no perché da qualche parte c'è gente sul mercato che sta andando a comprare o vendere a prezzo di mercato io a te te lo compro rivendo con un piccolo spread io ho fatto edging il market maker fa soldi da ogni transazione sia che vinci sia che perdi quando poi le cose vanno particolarmente bene va sul mercato a comprare la posizione opposta in realtà è un business fantastico loro però non è bello per te non è bello per te che tu parti sempre svantaggiato loro rischiano forse Giorgio correggimi se sbaglio un po' di più quando il mercato è volatile e quindi ci sono molti che magari no sicuramente sì sicuramente sì perché qualche volta rischi di non essere in grado di coprire velocemente di essere molto veloce proprio queste leve solo che non sono strumenti che un giovane deve usare no 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 sì pure questo questo è un'altra roba se non fatelo questo concordo con te quando dice i ragazzi i minorenni possono farsi aprire il conto no è droga ragazzi ma anche perché un ragazzino che quanto capitale potrà mai avere a disposizione suo zero perché sono sempre i soldi di mamma e papà o soldi che ha risparmiato da nonna da zia e cioè dove li trovi vabbè svantaggio forse riesco forse riesco al volo a farvi vedere perché questo qui in realtà l'avevo aperto inizialmente come demo su questo vantage market però non li conti avevo bruciato rimasti cento però facciamo un esempio proviamo a giocare un attimo provo a andare su bitcoin tutto crypto bitcoin euro provare a andare a mercato guardate non so se si vede bene ci sta un sell 40.000 buy a 40.75 30 punti di spread qua in mezzo è altissimo quindi se puoi comprare perché cosa fa a mercato lui avrà qualcuno che è disposto a vendere a un prezzo un po' più alto di questo e a comprare a un prezzo un po' più basso di questo qui ma sempre dentro a quei 27 punti di spread e quindi lui ogni volta tu fai un'operazione ha già la controparte pronta a comprarti là però vediamo un po' ho qualche soldo posso vediamo un po' ho qualche soldo lotti zero compriamo pam vai aperto ok già sto in perdita subito appena già sei meno zero se voglio rivenderla si vede tutto se zoom si vede in cavo pure schifo una UI fatta da un po' sto in perdita perché appena ho comprato ho pagato più di quello che dovevo e se voglio rivenderla in questo istante sto in rosso se poi ho culo e va su vado in profitto e poi ci vuole pure poco a fare strategie che guadagnano con alta probabilità pochissimo ma se vanno male perdono tutto questo è l'altro problema del martingala quindi io sto in perdita su questo qua abbiamo anche la posizione se mi ha solo qualche soldo non so USD card tutto il cripto USD CHF vaffanculo voglio la roba vera quindi spread sulle currency vere sono più bassi e si vede malissima scusate purtroppo la UI fa schifo e se zoomo è pure peggio è pure peggio quant'è lo spread si vede siete decente dai spariscono le cose mi sono perso mamma mia fa schifo sta cosa mi sono perso qualche panel tac seems that you didn't have any a destra mi sono perso ma manca qualcosa manca a destra forse a destra riesco rifacciamo così se ne fresco la pagina mi sono perso pezzi UI che fine ha fatto la schermata te l'hanno tolto live già t'hanno visto e te l'hanno tolta live la funzione non lo so non c'è più la funzione di buy è sparita ho finito i soldi ma tra l'altro mi hanno chiuso la posizione perché è andata in dove sta notification log vabbè non voglio starci troppo 0,26 questo è negativo ovviamente è negativo prima che esci su c'è chi aveva detto puoi averla anche su IB ma IB non mi fa affa 300 di leva e non mi dà questi spread se vado su IB e compro dollari ho uno spread che è inferiore a 0,1 pip cioè tu hai 1% un pip è 0,01% tutto lo stanno sotto lo 0,001% di spread qui hai uno spread più ampio però nelle carenze tradizionali era meno o meno ampio vabbè era per dirvi che c'è un po' giocato con sto vantage e oggettivamente è da gambler è da scommettitori e ha spread altissimi ma poi aspetta per il 30% devi darlo all'oro del tuo profitto se vinci non solo spread se tu se un mese vai su non so neanche se hanno un principio di high water ma questo non l'hanno mai detto se un mese fa più 50% tu da quello lì il 35% del 50% glielo dai a loro e poi il 26% lo paghi lo pagherai quando il tuo commercialista tra l'altro se ci metti 500 euro no eppure fai il 100% metti in casa di cui 170 si sono presi l'oro il 26% di tutta la somma non di quello che rimane perché al fisco gli spatta il cazzo che ha pagato un fia a qualcuno eh no c'è cazzi l'oro cazzi tuoi cioè tu lasci il 60% a qualcun altro e sono rimasti hai fatto il 100% in un anno e 500 euro sono rimasti 200 euro ma vale la pena? esatto considerando quanto quanto è alto il rischio quanto è alto che tu li perda totalmente quei soldi peraltro cioè manca a Dio però è sicuro è una cosa sicura non è sicuro un par de palle e ne vediamo io faccio l'appello ufficialmente se qualcuno è dentro il copy trading loro e vuol documentarmi ah loro dicono per ogni trade vincente viene già elevato il 30% che vuol dire? come fai? come fai? cioè come fai? sono integrati ogni singola trade è peggio perché vuol dire se faccio un giorno 5 trade vincenti e 3 trade perdenti su ogni singola trade mi levi il 30% non ci credo sarebbe criminale una roba del genere ma poi come fai a farlo con la piattaforma? cioè sei integrato la piattaforma e tu sai che Giorgio è mio cliente e tu gli dico la piattaforma lo sa però sarebbe veramente criminale se fosse a livello di singola operazione sarebbe una roba se è così dai qualche documento loro così dissero me lo ricordo pure io no penso sia al mese che ha più senso perché se un mese vado negativo comunque qualche trade vincente l'avrei fatta mi pigli le figure lì esatto hai fatto 3 trade vincenti 10 perdenti invece non è negativo se quei 3 positivi avrebbero i soldi non ci credo sarebbe criminale sarebbe criminale spero sì ragazzi quando viene chiusa la posizione se chiude il negativo perdi e basta se hai vinto alla somma vinta non ci credo non ci voglio credere se è così mandate qualche screen ragazzi mandateci screen o dichiarazione dove dicono questa cosa andiamo pure a Marra e il prossimo che ci abbiamo già se è così è gravissimo se è così praticamente cioè è sicuro che non prendere mai un euro secondo Pier Giorgio Chezzo il copi 3 funziona così se è così è proprio va beh il copi 3 funziona così questo è neanche regolamentato cioè ma che vuol dire De Giro trade capital e scalable capital questi qua sono quelli che sono regolamentati ma non in regime amministrativo questi non sono neanche regime questi sono stanno al tuvalu questo forse bene che va ti dà un report a fine anno con scritto come è andato io nell'account demo non ho nessun documento nessun storico delle trade neanche degli ordini passati qui comunque stiamo perdendo soldi eh ragazzi lo dico sto perdendo un sacco di soldi dove fare la leva qui che leva è stato qualche no non è stato leva un 300 un 300 ah vabbè una levezza una levezza di quelle prudenziale ho aperto con 0.01 ho aperto una posizione minuscola perché non c'ho più una lira perché mi sono già bruciato tutto quanto è già diventato ma sai la pubblicità dovrebbe essere io dico sempre come gratte e vinci che hai sbagliato il nome dovrebbe essere gratte e perdi perché tu di base perdi con gratte e vinci no poi una volta ogni milione puoi vincere qualcosa quindi hai sbagliato il nome il copy dating funziona così mi pare sano si boh fanno tipo sostitune di posta Giorgio cioè ti trattengono alla fonte invece che il 26 il 30 e poi che si quindi aspetta forse poi paghi quindi il 26 quindi allora quindi poi anima farà il report alla fine ma ti manda lui il certificato fiscale poi si immagini ovvio saranno sempre organizzati vendi tutto sono in profitto 007 vendi X chiudi posizione vai e dai soldi screenshot dashboard trader di successo e fai corso a un certo punto perché è una droga a un certo punto fluttuavano le cose e stavo tipo in positivo del 15% o tre click a caso volevo chiudere quel punto là fa lo screenshot e fare più 15% in un'ora ragazzi è una merda è una merda io ho fatto più 100% su Solana in un mese ci faccio un corso non lo so fra 10 anni ne parliamo se hai questo performance tra 10 anni ne parliamo poi ho fatto il meno 90% perché è passata a 9% è capito più 100 meno 90 se è in profitto comunque si ma già rispetto a dire ho fatto più 100 tra l'altro come tu dici se prendi più 100 raddoppi meno 90 poi esce in digito di parecchio si la battuta che hai fatto tu prima hai ragione dicevi fai 90% sei raddoppi sto parecchio sotto stai a meno 80% però se tu fai una fotografia di quel momento di quando hai fatto più 100% e non fai la fotografia di quando hai fatto meno 90 quindi hai perso non è che hai perso il 10 cioè beh ho perso il 10 perché ho fatto 100 ho perso il 90 ho ancora un 10% di profitto se non fai se fai quello è chiaro che è sempre forviante il discorso cioè è proprio sbagliato guarda Giorgio è lo stesso discorso degli screen degli e-commerce anche quando tu mi fai vedere ultima settimana 10.000 euro che cazzo non significa tanto non mi fai vedere quanto hai speso per fare quei 10.000 euro di fatturato soprattutto è qualcosa fondamentale magari hai speso 20 hai fatto 10 di fatturato stai perdendo un fracco di soldi non mi dici la marginalità a me di il mollo su quel prodotto quindi i 10.000 fatturati tu in tasca quanto ti sei messo di netto 3.000 euro se tutto va bene quindi sei speso io ci feci una storia su un caso studio di Riccardo Picotti di un suo studente di successo che diceva io ho fatto questo ho fatturato questo guarda comunque io ti mostrai col suo video ok col suo stesso video per farti capire è come se facessi un video dove dicessi guarda con Solana ho fatto il 100% a novembre poi vabbè a dicembre ho perso il 90% però comunque ho fatto un profitto del 10 e tu stesso prendi quel video e dici Gemano ma che cazzo a conti fatti hai perso l'80% è la stessa cosa che l'ho fatta con l'e-commerce ho fatto due conti ho detto Giovanni non hai fatto 10.000 euro ne hai persi 3.500 quindi hai 3.500 in meno e lui però era convinto in quella storia che lui aveva guadagnato certo allora lì perché per questi quali e-commerce serviva per prendere poi corsi su fare si sa era lo specchietto per all'odore sì sì che dici Germano abbiamo fatto tardi abbiamo fatto un bel po' quasi tre ore di live dai spiace che ci sono ancora mille più di mille persone che stanno seguendo è stato wow ragazzi tanta gente il tuo record qual è stato Giorgio qual è stato il tuo record i picchi qualche picco è stato anche molto più alto perché fai ride il cerbero ovviamente arrivano 3.000 persone però forse 1700 con Marcello Ascani non ricordo quasi stabili quasi stabili sempre live live ovviamente poi dopo contenuti ricaricati il mio video più grande ha quasi 300.000 sono tanti video che l'ho fatto molto bene però in live dopo tre ore a quest'ora eh Michele domani è festa no perché domani non ho le sub attive sul mio non esattamente avresti fatto il PM ah su Twitch scusate ragazzi c'è tanta gente che si è iscritta a Twitch ma sono un po' meno tu non ringrazzi tu sei ingrato ogni tanto mi sembra di spezzare il contenuto cioè mi sembra di spezzare il contenuto tu ne ricevi abbastanza immagino no ma non neanche tale lo dico i soldi ce li ho non state come invece no io dico sempre sono povero donate io rompo il cazzo ringrazio tutti non ho la barra non ho la barra per continuare la maratona con 1500 dollari di target mi fermo a 40 50 dovevi fare la maratona in albergo a Rimini ma tu non sai l'etroscena quello doveva andare a Rimini perché si era messo d'accordo con Patrizio Official poi penso che abbiano litigato per qualche motivo e quindi è saltata a parte che non ha raccolto un caldo pensa a quei coglioni perché io sono così devo chiamare perché sono solo questi quei coglioni che mi hanno dato 50 euro cioè pensa a un coglione che quello manco gli ha restituiti dice vabbè dai è andata male no se hai preso 50 euro è derrimato almeno donatevi da soldi donatevi un paio di cento no donatevi da soldi fai vedere cioè no manco quel cioè non ci credi manco tu a sta puttanata dai soldi a quel donatevi da soldi fai vedere tutti donano a me chiama quattro amici della tua grande community e dici ragazzi vi do 300 euro mi fate una veramente una roba una roba di una tristezza unica ma comunque è molto lui è molto calato sta lentamente morendo per fortuna non veni a citofonare che ho famiglia se citofoni no ma non c'hai soldi per venire fino a te non c'hai soldi per venire adesso ha detto ti racconto questo adesso ha detto che è andato a praga grazie grazie pensa per dimostrare che è andato a praga vedi tu che dimostrazione inconfutabile ha fotografato un libro in primo piano e poi ha scritto praga repubblica cieca sotto cioè manca a fare una foto a riciclare una foto no un libro con lui lui che fotografa tutto no lui quando sta in giro fa le foto ai treni alle cose forse ci ha spostato la residenza dell'attività sul libro cioè il nuovo indirizzo della il 30 è là si si è bellissima questa cosa vabbè comunque i libri contabili Giorgio grazie mi sono molto divertito è stata bella grazie a tutti anche in chat è un piacere ciao a tutti ragazzi mi hai rispiegato l'interesse composto che qui è sempre utile ripetirlo ci farò un video spiegato anche meglio si può spiegare molto meglio però ci farò un video apposta breve l'hanno chiesto in tantissimi così almeno una volta per tutte mettiamo la parola fine su sto discorso grazie Germano è stata una bella serata spero vi siete divertiti è stata una ottima partecipazione sì sì ora chiudo speriamo in un secondo Germano ti do di una cosa al volo ciao ragazzi buonanotte grazie a tutti grazie a tutti